Buonasera Buonasera e benvenuti a tutti Grazie della vostra presenza sia fisica che virtuale Questa è la seconda sessione del secondo meeting annuale dell'Alsia L'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura Siamo in modalità mista Quindi alcuni di voi sono qui appunto Altri sono collegati da remoto su piattaforma Zoom E in più i lavori, tutti i lavori del meeting Vengono trasmessi in diretta sul canale Facebook di Alsia Basilicata Questa mattina abbiamo chiuso la prima sessione con una nota molto positiva Una grande partecipazione da parte delle agenzie e degli enti di sviluppo regionali Che operano appunto in altre regioni C'erano qui otto agenzie, compresa la nostra La nostra della Calabria ha avuto un problema Quindi non ha potuto raggiungerci fisicamente Ma ha comunque aderito insieme alle altre sette Alla carta di intenti che abbiamo chiamato In onore della terra che ha visto questo primo meeting delle agenzie ed enti regionali L'abbiamo chiamato Lucania 2021 Questa è una carta di intenti, una carta di principi Ci sono quattro principi di cui abbiamo dato lettura stamattina Che sarà sottoscritta fisicamente, materialmente Da tutti i rappresentanti legali di queste agenzie Per stabilire delle azioni comuni E volte soprattutto alla nascita di un coordinamento tra agenzie Che abbia quindi la capacità di scambiarsi informazioni e esperienze best practice E fare come si usa, si abusa nel dire massa critica Per proporre poi delle innovazioni di processo Oltre che di prodotto alle amministrazioni regionali e nazionali E proporre poi progetti di ampio respiro Questa seconda sessione invece è interamente dedicata alle attività dell'Alsia Il tema che è stato scelto per questa seconda sessione È il tema della innovazione Quindi attorno a questo tema vengono declinate le varie attività Delle aree dell'agenzia Che saranno presentate qui dai dirigenti O comunque da loro delegati Passo subito la parola Nella scaletta che mi è stata definita A parlare c'è la direzione generale Per la direzione generale interviene il direttore Ok È accompagnato se non sbaglio dalle slide che mi è andato stamattina E quindi posso eventualmente condividere lo schermo Con la relazione del direttore Datemi la possibilità Eccola qui Buon pomeriggio a tutti Grazie ancora per la partecipazione Sia a tutti i funzionari A tutti i collaboratori A tutti i colleghi dell'Alsia Grazie agli ospiti in presenza E agli ospiti che sono ovviamente che ci seguono Attraverso i nostri canali di comunicazione Questa seconda sessione Che abbiamo Abbiamo intitolata L'abbiamo denominato come innovazione Strategie e risultati dell'area Delle diverse aree dell'Alsia Io la condenso in Invece in due parole L'Alsia si presenta Ecco L'Alsia si presenta per il secondo anno consecutivamente A noi stessi innanzitutto Perché credo che sia fondamentale Considerata la grande eterogeneità E gli innumerevoli Settori e programmi Che portiamo avanti all'interno della nostra agenzia In primis l'Alsia si presenta a se stessa In secondo Ma non per importanza Ma sicuramente Credo che sia Di pari Se non Di maggiore importanza Rispetto a presentarci a noi stessi L'Alsia si presenta ai nostri utenti Si presenta a quelle che sono Gli utenti di questa agenzia Ricordiamoci Che le modalità di gestione dell'Alsia Non modificano Qual è il nostro target Qual è il nostro ruolo sul territorio Qual è gli obiettivi che dobbiamo raggiungere Gli obiettivi sono quelli di contribuire All'inalzamento Della qualità Della salute Degli agricoltori Del settore agricolo E del settore alimentare Della regione basilicata Deve contribuire Al miglioramento sociale E ambientale Della nostra terra Deve contribuire A quelle che è un processo A 360 gradi E quindi Relazionandosi con tutte le altre strutture Regionali E nonché interregionali Allo sviluppo di questa nazione L'Alsia Deve contribuire inoltre A pianificare Quello che è lo sviluppo di questa terra Lo stiamo facendo Anche attraverso Il nostro contributo molto importante E chi è coinvolto Trasversalmente un po' tutti A programmare A programmare questa regione A programmare gli interventi Per il prossimo sestennio A livello nazionale Contribuendo anche Nel piano strategico nazionale Lo sta facendo anche attraverso Un contributo non secondario Quello che è Il PNRR Vedete È fondamentale La nostra partecipazione attiva È fondamentale mettere in campo Le migliori risorse Che questa regione ha E che questa ente ha E detiene Un grande bagaglio di conoscenze E un grande bagaglio Culturale e professionale Non possiamo esimerci Di dare il nostro contributo Perché questa terra possa Crescere E crescere in modo armonico E evitare E quantomeno iniziare a contribuire A invertire Quella grande road Quel grande male sociale Che ci portiamo ormai Da decenni In un continuo spopolamento Di questa regione Ma un continuo spopolamento Che riguarda essenzialmente Le più belle risorse umane E le più belle intelligenze Che siamo in grado di formare Io nella mia relazione La divido in due parti Una prima parte Che la farò all'ingresso Così come stiamo adesso Iniziando Che riguarda Un po' Quelli che sono i numeri Al consuntivo Di questo anno La settimana scorsa È stato l'anniversario Il secondo anno Di direzione Da parte del sottoscritto Di questo ente E mi piace Confrontarmi con voi Oggi Mi piace confrontarmi con voi Oltre a esprimere A vedere A quantificare Insieme a voi Ad analizzare tutti gli aspetti Che ci portiamo dentro Mi piace anche In questa prima parte Della mia relazione Dare dei numeri Che questo ente Che questa agenzia È in grado di produrre E che ha prodotto Nel 2021 Poi passerò la parola Alle area Ai dirigenti O ovviamente Alle persone Che A cui i dirigenti Hanno affidato il compito Di portare Le esperienze Più significative Quelle più innovative Che hanno messo in campo Alla fine Di questa giornata Ovviamente Avrete delle indicazioni Per quelle che sarà Il 2022 Visto da questa direzione Dell'agenzia La prima La prima diapositiva Che state osservando Sullo schermo Riporta il piano annuale Che abbiamo presentato È stato approvato Dalla regione Basilicata Il piano annuale Ovviamente Si Innesta All'interno Di un piano triennale Perché sapete molto bene Non lavoriamo a spot Non lavoriamo al momento Ma lavoriamo in una programmazione triennale Ovviamente Con un Aggiornamento annuale Che ci consente di Costantemente E continuamente Di aggiornare il tiro E di essere più efficaci Nella nostra azione Di intervento Sul territorio Il piano annuale Che è stato Approvato Il 5 di maggio Dalla Con la DGR Che vedete Nella diapositiva Era per un complessivo Di 6.416.021 euro Il piano annuale Prevedeva 72 progetti Di ricerca Di trasferimento Di innovazione Di servizi E di tutto quello Che questa agenzia fa 72 Schede di attività Per un numero Di dipendenti Di questo ente Poco superiore Alle 110 unità Se a questo Se a questo Sottraiamo Quelle che sono La parte Strategica E fondamentale Di questa agenzia Di supporto A quelle che sono Le attività Dell'ente Possiamo quasi Dire che Ogni funzionario Ogni dipendente Di questo ente Detiene O quantomeno Gli possiamo attribuire Una scheda Di attività Vedete È un qualcosa Quasi di unico Nello scenario Nazionale Nello scenario Degli enti Che Ogni unità Di personale Porta avanti Una scheda Se facciamo La media Sul personale 72 Attività Se andiamo Alla prossima Diapositiva Che le possiamo Riportare In questo In questa Diapositiva Per confrontarci Con quelle che poi È avvenuto Negli anni È avvenuto Negli anni A partire Dal 2018 Quando È stata Approvato Se ci riferiamo A questo anno Il 2018 Quando è stato Approvato Il piano Triennale Il 7 Di maggio In una condizione Di ordinarietà Del sistema 7 Di maggio Che viene Approvato Del piano Il piano Annuale Dell'Alsia Che Viene Non viene Completato Nell'anno Ma necessita Di essere Completato Di un Viennio Tant'è Che Il 18 Di aprile Dell'anno Successivo Viene proposto Come potete Vedere In questa Repositiva Il completamento Del programma Annuale 2018 A partire Dall'anno Successivo Dal 2020 Il piano Annumale Viene approvato A metà Aprile In una situazione Inizialmente Ordinaria E poi Immediatamente Tragica Pandemica Sapete Tutti quanti voi Che all'inizio Di marzo Abbiamo dovuto Chiudere tutti A casa Nonostante Questo Abbiamo approvato Il piano Nel Del 2020 Nel Al 21 Di aprile Quest'anno Ancora In una situazione Di emergenza Abbiamo Rinnovato E approvato Il piano Il 5 Di maggio Il 5 Di maggio Che Ovviamente Viene approvata Dalla regione Basilicata A partire Dall'2020 E successivamente Dal 2021 Annual E triennale Con degli obiettivi Chiari La regione Basilicata Per la prima volta L'aggiunta Ci assegna Dei compiti E degli obiettivi Da raggiungere Ci assegna Degli obiettivi A cui Questa agenzia Deve tendere Poi Spetta La dirigenza Creare Le condizioni Organizzare Tale La struttura Per poter Raggiungere Gli obiettivi Se guardiamo Anche La dimensione Finanziaria Della Della Programmazione Partiamo Da un budget Pari a Quattro milioni A poco meno Di cinque milioni Di euro Nel 2018 Per passare A oltre Sei milioni Circa sei milioni E mezzo Di quelle Che sono Di quelle Che sono La dimensione Finanziaria Del piano Del piano Dell'agenzia Cioè Vale a dire Nel giro Di un anno Nel giro Di due anni Abbiamo Abbiamo aumentato Di circa Il trenta per cento Trenta per cento E più Di quelle Che la dimensione Finanziare Del nostro piano Di intervento Sul territorio Come potete Osservare Il grande Salto avanti Nonostante Che c'è stato Un leggero Io dico Leggero Incremento Finanziario Siamo passati Da ben Ventitré Attività Siamo passati A ottantaquattro Nel duemila E ventuno Nel duemila e ventuno A settantadue Progetti Attività Nel duemila e ventidue Pur Con un incremento Di circa Un terzo Poco meno Di un terzo Della Della quadratura Finanziare Chi Ha studiato Un po' di economia Chi Ha studiato Un po' di gestione Si può rendere conto Di quelle Che è stato Il salto Che è stato fatto In questo biennio Se passiamo Alla prossima Diapositiva E cioè È una Diapositiva Che ho Già Illustrato Questa mattina Potete osservare Al di là Dei sei milioni E dispari Che la regione Che la regione Basilicata Ci mette a disposizione Per quanto riguarda Il costo Fisso Dell'agenzia Cioè Il personale E alcuni servizi Il Le fonte finanziarie Esterne Cioè Le settantadue Quelle schede Su cui lavora L'agenzia Che sono pari A oltre Sei milioni di euro Circa sei milioni e mezzo Di euro Hanno prevalentemente Delle entrate proprie Hanno entrate proprie Come ho detto Stamattina Essenzialmente Essenzialmente Con progetti Che vengono candidati E quindi Che vengono esaminati Dal Da quelle che sono Le commissioni Che vengono Esaminati E selezionati Ed approvati Cioè Questo è un grande Vanto che va A tutti quanti voi Tutti quanti voi Perché Attraverso questi progetti Esprimete il meglio Delle professionalità Che sono presenti In questa regione Che sono presenti Sul territorio nazionale Se possiamo passare Alla successiva Diapositiva Vediamo poi Come sono Come sono anche Trasversalmente Utilizzate E ovviamente Utilizzate Le risorse E dove sono Allocate le risorse La voce più importante D'altronde Come ho detto Anche stamattina E Non può che essere Nella parte Del core business Di questa agenzia Cioè vale a dire Chi produce innovazioni Perché Produrre innovazione A livello nazionale Internazionale Ha un costo Ha un costo Elevatissimo È lì Che bisogna investire Nei prossimi anni A livello locale E a livello nazionale Bisogna investire Perché questa nazione E questa regione Ha bisogno di innovazione Le innovazioni Vanno prodotte Le innovazioni Vengono prodotte In agenzia Nella Sulla linea Di intervento Della industria Della ricerca E dell'innovazione Per circa I due terzi Di nostri investimenti Che facciamo Lì Queste innovazioni Le andiamo a produrre Con finanziamenti Pubblici e privati Che ci riconoscono Un ruolo Un ruolo trainante Un ruolo di ricerca Un ruolo di eccellenza Che possediamo All'interno Di questo ente E che è capace Di convogliare Presso questa struttura Poco meno Di 4 milioni Di ricerca Di finanziamenti A fianco a questo A questo core business Teniamo un altro Target Molto importante Sappiamo Tutti quanti Che le aree interne Di questa regione Sono delle aree In cui hanno necessità Di investimenti Sono le aree In cui c'è Un maggior spopolamento Sono le aree In cui Più Vencono tenute All'esterno Di un sistema Economico Un sistema Economico Del business Una grande impresa Difficilmente Va a investire Nella zona Interna Nella zona In cui ci sono Delle difficoltà Oggettive Perché si possa Creare imprese Bene Noi proprio In quei territori E mi riferisco A tutte le aree interne Teniamo Un grande investimento Da parte dell'agenzia Che pare a circa Un milione E cinquecento Mila euro Cioè vale a dire Un milione e mezzo Di euro In cui andiamo a investire Nelle aree interne Attraverso anche Un'innovazione sociale A fianco a questo Un altro tema Strategico Non solo Per l'agenzia Strategico Per la salute Dell'ambiente Per la salute Dei consumatori E per la salute Di quello che è Il sistema Agroalimentare E Per un importo Di circa Cinquecentomila euro Andiamo a fare Attività Nella agricoltura Sostenibile E per quanto riguarda L'ambiente Per noi L'ambiente Non è un qualcosa Che si legge Sui libri Per noi L'ambiente è qualcosa Che è tangibile Su cui interveniamo Pesantemente Con le nostre competenze E con le nostre Professionalità Su questo segmento Su questa linea Di intervento Investiamo Circa cinquecentomila euro È da anni Che si parla Di biodiversità È da anni Che leggiamo E ascoltiamo Tanti Tanti Tutti Si divertono A parlare Di biodiversità Tutti Dalla biodiversità Microscopica Che troviamo Nel terreno Alla macro Biodiversità Di animali E di piante superiori Ovviamente La biodiversità Non sono solo Chiacchiere Non sono solo libri Non è solo una lettura La biodiversità Per poterla Per poterla Rendere Vera Necessita Anche in questo Settore di soldi Di investimenti Noi su questo Segmento Investiamo Duecentosessantamila euro All'anno Su un bilancio Di gestione Di sei milioni Di poco più Di sei milioni Ma sono soldi Che non Che non comprendono Gli investimenti Strutturali Che abbiamo fatto Sulla biodiversità Siamo una punta Di eccellenza A livello nazionale Relativamente Alla biodiversità Per quello che siamo In grado di fare Dalla conservazione Della Banca del Germoplasma Dalla rete internazionale A cui aderiamo Ai diversi livelli Per la conservazione Della biodiversità Non ultimo Come vediamo dopo Facciamo parte Di un progetto Internazionale Europeo In cui ci vengono Riconosciute Delle competenze Che noi teniamo E ci è stato chiesto Nel duemila e ventuno Di aderire A questo progetto Internazionale Lo facciamo Attraverso Una banca del Germoplasma Che questa direzione Intende Fortissimamente Valorizzare E potenziare Perché è un bene A cui Ci teniamo tutti E a cui Dobbiamo Necessariamente Tramandare A chi verrà dopo Di noi La biodiversità Non solo L'andiamo a scoprire L'andiamo A rilevare L'andiamo L'andiamo a conservare La biodiversità La biodiversità Come vedrete Dopo A partire dal Duemila e ventidue Inizia a fare Reddito Un'agenzia Non può Vivere Esclusivamente Di quello Che è Trasferimenti Regionali Non è Le agenzie E di oggi Si devono Confrontare Anche Con il mercato Noi Andremo In questa Direzione Riforma Fondiaria La riforma Fondiaria Teniamo un patrimonio Immenso Immenso Dopo 70 anni Circa Ancora Che dobbiamo Dismettere Agli agricoltori Ancora A chi utilizza La terra Per fare Reddito È grave Che dopo 60 anni Teniamo ancora Un patrimonio Immenso Da dismettere Su questo È stato uno Dei primi Impegni Di questa Direzione Per poter Creare le condizioni Idonee Perché Finalmente Questo processo Avvenisse E avvenisse Con una certa rapidità La settimana Scorsa Questa settimana Scatano i 15 giorni Dall'approvazione Della legge Che modifica Sostanzialmente Quelle che sono Le norme Per la dismissione Dei beni Mi sono ritrovato Di fronte A un A un conflitto Tra un regolamento Approvato E una legge regionale A un conflitto Che non consentiva In modo più assoluto Di poterlo applicare Con normalità Con regolarità E con la legalità Che necessita Dopo Dopo Un po' di tempo È stata approvata La norma La PDL Che modifica La legge La settimana prossima Va in discussione Il nuovo regolamento E noi speriamo Che a partire Dal 2022 Possa finalmente Decollare Definitivamente La dismissione Dei beni Della riforma La riforma fondiaria La riforma fondiaria Abbiamo fatto investimenti Per un milione Per cento Due mila euro Che è un investimento Non Non di poco conto Se pensate Che La riforma fondiare La dismissione Dei beni Della riforma fondiare Deve consentire A quest'ente Di acquisire Risorse Per poterle Rimettere In gioco Ritrasferirla Al settore Agroalimentare Della regione Basilicata Per poter Fare Reddito La riforma fondiare Deve consentire Di acquisire Risorse Comunicazione E divulgazione L'ho detto Stamattina Grandi investimenti Sono stati fatti Su questi settori Passare da Poche decine Di migliaia di euro A circa Quattrocentomila euro Nel giro di pochi mesi Sono circa Vintiquattro mesi Significa Credere In un segmento Di questa agenzia Strategico Perché noi Dobbiamo Ritornare A essere Presenti Nelle aziende Ad essere Presente Sui palmari Sui telefonini Sugli schermi Nelle aziende Con il nostro Messaggio Di servizi Con le nostre Competenze E con le nostre Professionalità Vedete In tutto questo C'è un patrimonio Che è stato Trascurato Per anni Per anni E che A partire dal prossimo Anno Sarà ultimamente Rifinanziato L'Alsia Detiene un patrimonio Storico Di tutta la documentazione Della riforma E non solo Perché Valutato Attualmente Per oltre 6 milioni Di euro Un patrimonio Un patrimonio artistico Storico Storico Culturale Abbandonato Nei cassetti Abbandonato In qualche Scantinato Che necessariamente Deve essere valorizzato Deve essere portato Alla conoscenza Di quelle che sono La nostra storia La nostra storia È perché I giovani Possono comprendere Esattamente Che cos'è Il percorso Che questa regione E il sud Italia ha fatto Andiamo alla prossima Depositiva Riparto Dei progetti Su questo andrò Molto Andrò Molto Veloce Per fare una sintesi Vi dicevo Settantadue progetti Di questi Tutti e settantadue Sono stati avviati Quest'anno Abbiamo chiuso Ventisette progetti Ne teniamo Quarantacinque In corso Che saranno Tutti Tutti Oggetto Di continuazione Del duemila E ventidue Se qualcuno Dal primo di gennaio Non sa che fare Perché non c'è Un piano annuale Sapete che avete Quarantacinque progetti Su cui dovete Ovviamente Continuare con la vostra Opre Con la vostra Professionalità A portarli avanti Andiamo alla prossima Entriamo Entriamo Nei vari comparti Questo è Il primo target Di cui vi dicevo Che quota Poco meno Di 4 milioni di euro Questi sono i progetti Dell'agroindustria Della ricerca E dell'innovazione Come potete osservare Ci sono Linee di ricerca Ci sono linee Di intervento Che vanno Da quelle che vengono Dalle imprese private Basta vedere Singenda Singenda riconosce A questo ente Alza Al centro di ricerca Alza Uno Di quello che è In Come posso dire Una di quella che è Eccellenza A livello mondiale Per affrontare Un tema Delle euro banche Fanerocuma Parassita Non solo Del pomodoro Ma di tante altre specie Coltivate Per poter risolvere Un problema mondiale E non un problema Locale Riconosce in questo ente Le capacità Il know-how La struttura L'expertise Che teniamo Per poter risolvere Un problema A livello mondiale Lo fa La singenda Che è una multinazionale Che è un grosso gruppo mondiale Che collabora con tutti i centri mondiali Potrei continuare Su queste Su questa scheda Per molti altri A Temi Ma mi piace Soffermarmi su un altro Segmento Molto importante Per quanto riguarda La validazione Dei profili genomici Dei prodotti agroalimentari Noi teniamo All'interno Della nostra struttura Alzi All'interno Nel nostro centro di ricerca L'expertise La capacità Il know-how Le apparecchiature E tutto quello Che è necessario Perché Un qualcosa Di anonimo Una pianta Qualsiasi Possa avere Un nome E cognome E teniamo la capacità Di vestirla con un frac Per poterlo Mostrare Al mondo intero Questo ci consente Non solo Di interagire Con i gruppi mondiali Ma ci consente Di dare un impulso A quelle che è L'economia Piccola Locale Marginale Della nostra regione Lo facciamo Su alcuni prodotti Di nicchia Siamo in grado Di dire Chi sono Da dove vengono E dove li vogliamo portare Lo facciamo Andando a Identificare Andando a Come posso dire Andando a dargli Un codice Unico E univoco Questo E grazie Alle strutture Che teniamo All'interno Della nostra Della nostra Struttura Potrei continuare Ripeto Dalla Dalla diagnostica Fidosanitaria A quello che sono I progetti Ancora di intervento Sul territorio Come la processionaria Stop È un progetto Che riguarda La nostra Pineta La nostra Pineta Dell'arco Ionico In cui La nostra Agenzia Sta mettendo in Gambo Le migliori capacità Innovative Che attualmente Sono presenti Attraverso Droni Arriveremo A controllare In modo Puntiforme Quelli che sono I nidi Della processionaria È un qualcosa Di innovativo Un qualcosa Di utile Un qualcosa Di unico A livello Nazionale Così come pure Tanti altri progetti Se andiamo avanti Agricoltura Sostenibile E ambiente Agricoltura Sostenibile Riguarda Essenzialmente Le nostre Aziende Di supporto Le aziende Sperimentali Come dicevo Distribuite Su tutto il territorio Tutte che hanno Un'altissima Capacità Di sintesi Di progettazione E di realizzazione Di progetti Attraverso La enorme Specializzazione E che è un processo Avviato l'anno scorso Che deve Continuare Nei prossimi anni Che è quello Di renderle uniche Queste aziende Che devono interagire Tra di loro Ma devono essere uniche Una rete Non è un'azienda A disposizione È solo A livello territoriale Ogni azienda Deve avere È vero La sua specializzazione Ma non può che essere In rete Con le altre aziende Trasferimento Progetti di trasferimento 16.1 Come ho detto Stamattina Siamo presenti In quasi tutti I gruppi operativi Del A livello Nazionale Al livello regionale Quindi a livello Nazionale Ed europeo Con diversi progetti Sono tutti Scarenze Sul 2022 Ma stiamo già Ipotizzando Un percorso Perché questi Gruppi operativi Continuano la loro Attività Al di là Di quello Che è il contributo Pubblico Relativamente Ai progetti Di trasferimento Servizi di base Servizi di base Servizi reali Alle imprese Teniamo Un servizio Agro meteorologico Un punto Un punto di forza Un fiore all'occhiello Di questa regione Che ci viene riconosciuto A livello Nazionale Dalle altre Agenzie Ci viene riconosciuto E invidiato Di come viene Sapentemente Gestito E di come viene Anche trasmesso A quelle che sono Le aziende Su questi Investimenti Sono stati fatti Continueranno Anche nei prossimi anni Come vedremo Alla fine Abbiamo fortemente Intensificato Quest'anno Con due interventi Settimanali Di quelle che Un servizio Agro meteorologico Previsionali Cioè vale a dire Facciamo Un modello Previsionale Per tre giorni Che riguarda Essenzialmente Le nostre aziende Agricole Inoltre Su questo aspetto Abbiamo fatto Ulteriori In grazie Alla collaborazione Col CNR Utilizzando le migliori Risorse Scientifiche Professionali Che teniamo Sul territorio Nazionale Stiamo migliorando L'utilizzo Dei dati Che acquisiamo Acquisiamo Giornalmente Come dicevo Tutte le stazioni Sono funzionanti Siamo riusciti A rendere Operative Tutte le stazioni Servizio di difesa Integrata Ormai Un'altra Un'altra Asset strutturale Della regione Basilicata Dell'Alsea Servizio di difesa Integrata Che ci consente Di dare Alle aziende Agricole Su un tema Particolarmente Importante Tema Che riguarda La produzione Tema che riguarda La redditività Delle aziende Tema che riguarda L'ambiente E cioè La salvaguardia Dell'ambiente Tema che riguarda All'innovazione Nella Difesa Nella strategia Di difesa Delle piante Su questo Servizio Che oramai È strutturato E consolidato Possiamo dire Che anche In questo E grazie Anche a interventi Paralleli A strategici Stiamo ulteriormente Rafforzando Così come pure L'altro servizio Strutturato Quella Della Tarratura Delle macchine Delle macchine Irroratrice Cioè Alle Alle Agenzie O alle società Che svolgono Questo ruolo Diamo il nostro Supporto Diamo il nostro Supporto Come vedete Anche da un punto di vista Della realizzazione E quindi del budget Che stiamo utilizzando Stiamo perfettamente In linea Stiamo iniziando Anche a verificare Quanti soldi Spendiamo Come li spendiamo E non necessariamente Dobbiamo raggiungere Il cento per cento Il fatto di poter iniziare A entrare nella qualità Della spesa E non solo Spendere Punto Questo ci consente Di meglio Programmare E di meglio Pianificare Le attività Per il futuro Progetti di collaudo Innovazione Lo sapete voi tutti L'Alsia Oltre a essere Capofila Di progetti Della 16.2 E anche partner Nella stragrande maggioranza Dei progetti Della 16.2 Sulla prossima Diapositiva Possiamo Vedere Quello che Invece Viene fatto Costantemente Per quanto riguarda Le aree interne Per quanto riguarda L'innovazione sociale Per quanto riguarda Le aree interne Ormai siamo In una situazione Strutturata In una situazione Organizzata Razionalizzata Derivante da anni Di relazioni Presente sul territorio Con i partner Istituzionali E non solo Partner istituzionali Quali sono Quelli per esempio Il parco del Pollino Quali possono essere Altri attori Presenti sul territorio L'abbiamo Ulteriormente Rafforzato Quest'anno Con accordi Strategici Come per esempio Quello delle prologo Come per esempio Quello dello Slofood Eccetera Perché la nostra azione Possa avere una maggiore Capacità di penetrazione Un miglior risultato Rispetto alle nostre azioni Che mettiamo in campo Per quanto riguarda Le aree interne Ovviamente Anche in questo caso Sono presenti Le nostre aziende Sperimentali In particolar modo Ci riferiamo Alle due aziende interne Delle aree interne Uguale Quella del Pantano E quella E quella Dell'azienda di Nemoli Due aziende Ugualmente Con forte caratterizzazione Di specializzazione Dove L'indice di realizzazione Dei progetti Su queste due aziende Ha raggiunto Ad oggi Il 90% Per quanto riguarda Ancora I servizi di base E di base Relativamente Alle aree interne Come potete vedere Teniamo L'agricoltura Multifunzionale Su cui grande Spinta Se questa regione Si è sviluppata Negli ultimi anni E ha rafforzato Enormamente Quello che è L'ospitalità Quello che è Quello che sono Gli agriturismi Quello che è La forte Relazione Interazione Tra l'agricoltura Tra il turismo E grazie anche Al grande intervento Che è stato fatto Attraverso Le Attraverso Le Fattorie didattiche Attraverso I bed and breakfast Attraverso Tutto quello Che siamo riusciti A portare Nella classica Azienda agricola Che una volta Faceva solo Produzione primaria E oggi invece È un'azienda Multifunzionale Anche su questo Nel prossimo anno Cerchiamo di migliorare Il nostro intervento Perché c'è un segmento Molto importante Da portare avanti Che è quello Della Della Delle aziende Dell'azienda sociale Poi Teniamo progetti speciali Come la valorizzazione Della trota Come per esempio Ancora Sulla 16.2 Come per quanto riguarda Il PSR Sulla 16.1 Se Continuiamo Con la nostra rassegna Vediamo Sulla linea Di intervento Numero 4 Cioè Biodiversità E produzione Di qualità Per un totale Di budget Di Poco superiore A 250.000 euro Un quarto Di un milione Di euro Quali sono Tutti i progetti Tutti i progetti A candidatura A candidatura Regionale E nazionale Che sono tutti Competitivi Vedete La maggior parte Di questi progetti Vengono confrontati Vengono selezionati E successivamente Vengono Approvati E finanziati Questo Ancora una volta Grazie alla capacità Che teniamo E all'enorme Professionalità Che teniamo All'interno Della nostra struttura Se andiamo Ancora avanti La riforma fondiaria La riforma fondiaria Quest'anno Ha avuto Una forte Battuta Di arresto Lo sappiamo tutti Perché La forte battuta Di arresto Perché non Abbiamo avuto A disposizione Gli strumenti Normativi Per poter Consentire Una rapida E un'efficacia Dismissione Dei beni Ma nonostante Tutto si è fatto Un lavoro Preparatorio Un lavoro Di base Non solo Formativa A livello Del personale Ma anche Quello di Mettere a punto Quelli che sono I sistemi Che domani Andremo Di utilizzare Per la dismissione Per la dismissione Dei beni E vale a dire Quello che è Del censimento Dei beni Della riforma stessa Qualcosa Di molto importante Che sicuramente Sarà un valido Strumento Per poter Avviare Con la nuova Normativa La dismissione Dei beni Non ultimo Su questo segmento Cioè vale a dire Sul patrimonio E sui lavori Per la salvaguarda Delle nostre Delle nostre Agenzie Delle nostre strutture Sono i lavori Che sono stati avviati L'anno scorso E sono stati conclusi La palazzina Direzionale Di Pantanello Uno dei centri Fiore all'Occhiello Già oggi Ma sicuramente Domani sarà Un centro di riferimento Del bacino Del Mediterraneo In cui abbiamo Completato i lavori La settimana scorsa Se non vado errato E se è stata Connessa alla rete Anche il nostro Imbiando I nostri Imbiando di produzione Di energia elettrica Su questo Faremo Ulteriore E grossi investimenti A partire già Dalla settimana scorsa Per poco meno Di un milione di euro Che andrà Verso la Ristrutturazione De quelle che sono Le serre Per poi proseguire Rispetto a quelle Che sono altre strutture Nonché Per quello che E ovviamente Una delle cose Che stanno in programma È quello che La Guardiania Cioè Vale a dire Sarà messo a punto Un sistema Un sistema D'ingresso All'interno Della struttura Stessa Abbiamo concluso Quindi anche L'intervento Sulla tettoia Sempre di Pantanello Quello che è La sala Amichetti Lasciatemi dire Purtroppo La sala Amichetti Avevamo programmato Di averla disponibile Di averla disponibile Già in questi giorni Purtroppo Per avere Un po' di problemi Non siamo riusciti A completare i lavori Ma noi speriamo Di poterla avere Quando prima Disponibile Teniamo una mega sala Che è stato Il fiore all'occhiello Che l'abbiamo tenuta Chiusi Per anni Non utilizzate Nella nostra struttura Dell'ossa Noi con un intervento Che è stato Deliberato Una quindicina di giorni fa Di circa 150.000 euro Cerchiamo di ridare Di nuovo La sua Il suo ruolo La sua funzionalità Il suo splendore A un'altra struttura Importante Per lo sviluppo Di questa regione Non ultimo È in fase Di C'è un grosso intervento Sull'azienda Sull'azienda Di Pantano Abbattimento Di costruzione Della palazzina E quindi La realizzazione Di un centro Di formazione E di addestramento Nonché Gli uffici Un intervento Di po' Intorno A un milione Di euro Che è Una progettazione In corso Di ultimazione Andiamo avanti Comunicazione E divulgazione Comunicazione E divulgazione Come vi dicevo Un grande intervento È stato fatto Per potenziare Il sistema Di videocomunicazione Così anche Per quanto riguarda La fornitura E la prestazione Dello smart working L'agenzia L'anno scorso È ulteriormente Rafforzata Quest'anno Un sistema Di postazione Che tutti i dipendenti Hanno potuto lavorare Anche da casa Il smart working L'abbiamo implementato Nel giro di poche settimane Quando gli altri enti Non solo regionale Ma anche extra regionale Non avevano ancora Cognizione di causa Di che cos'era Lo smart working Siamo riusciti A potenziare Tutta la nostra struttura Tutta norma di legge Attualmente Diciamo Il grosso La maggior parte Di tutti i dipendenti Dispongono E hanno la possibilità Di poter lavorare In smart working Su questo È necessario ovviamente Un intervento Perché lo smart working Così Come è stato Ideato Un anno fa Di tenere tutte a casa Per un problema Di tipo pandemico Non è più Quello di tenere A casa I dipendenti Di tenere a casa I lavoratori Ma diventerà Sicuramente Nei prossimi mesi Nei prossimi anni Uno strumento Ordinario di lavoro Ovviamente Con delle regole certe E questo è fuori discussione Abbiamo avviato Un sistema di automazione Per quanto riguarda il sistema Delle performance Dell'anticorruzione E trasparenza Se a volte Si sono verificati Dei ritardi Nella predisposizione Di alcuni atti Ovviamente Stiamo cercando Di intervenire Automatizzando I sistemi E questo Non solo Ci consentirà Di accorciare i tempi Ma sicuramente Ci consentirà Di armonizzare Tra le diverse aree Il modello Il modello organizzativo E il modello di valutazione Così come pure Forti interventi Che è stato fatto Nella comunicazione Attraverso i nostri sistemi Che teniamo Attualmente in funzione La capacità di spesa È stata realizzata Ad oggi Per il 95% Cioè vale a dire Su questo segmento Rispetto al programmato Siamo stati Lasciatemelo dire Abbastanza coerenti Abbastanza bravi Di programmare Quasi esattamente Le risorse Che erano necessarie A questo settore Andiamo alla prossima Affari generali Gli affari Gli affari Gli affari Generali Finanziari Del personale Tutti quanti voi Sapete Hanno avuto Un momento di affanno Un momento di affanno Dovuto a diverse con cause Con cause Che sono derivate Dalla legge regionale Che ha Ritrasferito il personale Nei ruoli Dell'agenzia All'improvviso Ci siamo dovuti Ingegnare Ci siamo dovuti Attrezzare Per poter Predisporre Le buste a paghe Per poter Predisporre Tutti gli atti Perché i cento E più dipendenti Dall'agenzia Potevano Continuare Tranquillamente A ricevere Lo stipendio A ricevere Tutti Quelli che erano Ovviamente Gli elementi necessari Da un punto di vista Delle buste a paghe Dei versamenti Eccetera Vi chiedo scusa Personalmente Se su qualcosa Abbiamo perso Diciamo abbiamo Come posso dire Non abbiamo mantenuto L'obiettivo Nei termini Che c'eravamo Preposti Cioè Vado a dire Non siamo stati precisi Nelle scadenze Qualche volta Abbiamo dovuto ritardare Di qualche giorno Qualche giorno Non significa E non ha significato Per Per l'agenzia E per i dipendenti Non avere Non avere a disposizione Tutte le risorse Che gli consente Il contratto Per la prima volta Ci siamo cimentati In un contratto Della pubblica amministrazione Il contratto Che abbiamo sottoscritto La settimana scorsa No Questa settimana Lunedì abbiamo sottoscritto Il contratto In delegazione trattante È stata Sottoscritto All'unanimità Lasciatemelo dire Anche Con i complimenti Da parte Della parte sindacale I complimenti Della parte sindacale Che non sono Facili averli Perché come sapete Nella Nella contrattazione Si vuole necessariamente Portare avanti Un dualismo Una contrapposizione Contrapposizione Che non c'è stata In nessun tavolo C'è stata una Degna E opportuna Contrattazione A livello Decentrato Abbiamo avuto La possibilità Di trasferire Sul contratto Risorse aggiuntive Per oltre Cinquantamila euro Rispetto A quello che era Il budget Iniziale Soldi aggiuntivi Che sono stati Ovviamente Una tandem Relativamente Al duemila e ventuno Che non siano stati Distribuiti Fino All'ultimo centesimo A tutti i dipendenti Di questa agenzia E un grande risultato Che abbiamo ottenuto Un grande risultato Che abbiamo ottenuto Grazie anche Alla collaborazione E al forte impegno Al forte sostegno Per quanto riguarda La parte sindacale Oltre a questo Come vi dicevo Da parte Degli uffici Degli uffici Che hanno gestito Tutta questa transazione Questo ritorno All'interno Dall'entro del personale Non solo È riuscito A tenere il passo A evitare Così come qualcuno Lasciatemelo dire Con un pizzico di polemica Si auspicava Qualche ora di ritardo Nel versamento Dello stipendio Cosa Che non è successo Questo Debo ringraziare Pubblicamente Ufficialmente Le persone Che lavorano In questo settore E ancora un'altra volta Voglio fare un grande Comprimento A queste persone Perché c'è gente Che la mattina Va a fare la terapia E alle ore dieci Sta in ufficio A lavorare Per la collettività E per tutta l'agenzia Credo che a queste persone Tutti Devono avere Un grande rispetto Perché sono persone Che lavorano Per tutti quanti noi Ancora Andiamo avanti Direzione La direzione Ha cercato di fare Quello che è possibile fare E cioè Posizionare Questo ente L'agenzia In una rete Relazionale Strutturata A livello regionale E a livello nazionale La mattinata di oggi È stato Un esempio Di come si muove Questa amministrazione E questa direzione Quella di Dare un'identità Di mettere In evidenza Tutte quelle che sono Le alte capacità professionali Le alte capacità Tecniche E strutturali Che sono presenti Ci proviamo Tutti quanti insieme Ma sicuramente Teniamo ancora Tanto da lavorare E sono certo Che con l'aiuto Di tutti quanti voi Riusciamo anche A raggiungere Altri obiettivi Io credo Di fermarmi qua Perché relativamente Al 2022 Chiuderò Questa sessione Con un'altra decina Di minuti Che mi volete Riservare Vi ringrazio Grazie direttore E a questo punto Proseguiamo Questa Era necessaria Questo inquadramento Da parte del Direttore Questo inquadramento generale Adesso cominciamo Con le singole aree La prima Che ho in scaletta È l'area servizi di base Di cui Il direttore È anche dirigente A Interim Chi interviene Per i servizi di base Emanuele Scalcione Faccio io Devo solo trovarla Aspetta 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 Un attimo Un attimo Un attimo Solo Aspetta un attimo 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 Grazie. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A proposito, volevo dire che io ho organizzato la presentazione praticamente in due sezioni. Uno che si riferisce al contesto normativo sia relativamente alla parte finanziaria e l'altro relativamente alle attività da noi eseguite. Come vedete qui le ho elencate, poiché ho fatto riferimento a quelle che hanno permesso le attività del 2021, quindi la delibera 59 che fa riferimento, che quindi finanzia le attività relative ai servizi specialistici che sono state già abbondantemente anche discussi. Quindi l'attività agrometeorologica che io conduco e ringrazio per gli elogi che sono stati rivolti e che ovviamente estendo al gruppo di lavoro, che ringrazio Petro e Giuseppe. E poi naturalmente poi ci sono anche le attività che fanno capo ai servizi fitosanitari, le fattorie didattiche e quindi tutte le attività di promozione. A cui però dobbiamo aggiungere un elemento essenziale che è il piano di azione nazionale, che è praticamente, come dire, è stato l'elemento cardine che ha obbligato e ha reso operativo, anche se noi in Basilicata da un po' di anni avevamo già questi servizi attivati, quindi l'agrometeorologia e i servizi fitosanitari, comunque ha reso, come dire, obbligatori e quindi diciamo che noi siamo stati, come dire, forse antesignani, non lo so, però siamo stati diciamo abbastanza bravi. Queste sono le misure del PSR che comunque a cui abbiamo fatto riferimento quest'anno, quindi alla misura 2.1 e quindi poi le misure 16, sotto misure 16.1 e 16.2, oltre a cui vorrei aggiungere anche le misure agroclimatiche ambientali, la misura 10. Ma io mi permetto di andare un po' oltre, poiché dovremmo andare a pescare soldi, a bussare cassa per i prossimi anni. Quindi per finanziare le nostre attività e poiché praticamente le prossime, come dire, riferimenti finanziari, partiamo dal PNRR di cui se ne parla tantissimo e siccome alcune di queste misure sono state affidate al MIPAF, quindi soprattutto con l'innovazione, la meccanizzazione, quindi io qui le ho elencate e quindi anche relativamente all'ecosistema agricolo e quindi soprattutto anche il RIGO e quindi diciamo, quindi sono misure direttamente gestite dal MIPAF a cui praticamente vengono aggiunte anche delle risorse finanziarie relativamente alla transizione digitale, quindi alla informatizzazione, perché stamattina si parlava anche di alfabetizzazione che è importante nel settore agricolo, oltre che alle misure di contrasto al cambiamento climatico, perché non ci dobbiamo dimenticare che viviamo in un contesto di questo genere e oggi forse io dico che è diventata una parola di moda, però diciamo che sono fenomeni che accadono, quindi di cui dobbiamo naturalmente tenerne in debita considerazione, che però sono alla base di molti finanziamenti e siccome io e Caponero, quindi parliamo come dire, riferimenti di alcune attività, servizi fitosanitario e agrometeorologico, quindi abbiamo spesso, facciamo riferimento alle nostre attività, rientrano a man bassa in questi argomenti, quindi possono essere, chiaramente suggeriamo al tavolo, io pensavo ci fosse anche il direttore del Dipartimento di Cultura, ma ovviamente mi rivolgo a lei direttore e anche, vabbè non ci sono gli altri esponenti dei servizi, delle agenzie regionali, poiché può essere questo un riferimento finanziario importante, poiché ci sono anche altre missioni di interesse nel PNRR, appunto quello legato alla tutela del territorio, al degrado, quindi vedete, io le ho elencate e che ovviamente non sto lì a ripetere. A cui dobbiamo aggiungere anche la nuova PAC? La nuova PAC è anche essa un elemento fondamentale, poiché, come dire, va a rafforzare l'attività, quindi dei servizi agrometeorologici e fitosanitari, poiché vi sono appunto queste sette tematiche a cui fanno riferimento, che poi ovviamente saranno snocciolate nel corso degli anni, però vedete subito che si tratta, come dire, sempre di gli stessi argomenti, quindi mitigazione, adozione di misure affinché l'agricoltura quindi si adatti a queste condizioni di cambiamento climatico, uso razionale delle risorse idriche, biodiversità e così via, fino chiaramente ai prodotti, quindi al biologico e poi anche al benessere animale. A cui aggiungerei anche queste altre due fonti finanziarie, che sono il programma nazionale di ricerca, poiché appunto vi sono delle aree di intervento sulla bioeconomia e sull'uso ottimale delle risorse naturali e quindi anche all'adattamento dei cambiamenti climatici, e la stessa politica di coesione, poiché la politica di coesione ha come finalità quello di ridurre le disparità tra le varie aree dell'Europa e quindi anche in questo caso delle regioni italiane, quindi tra Nord e Sud Italia, poiché spesso si parla sia di Europa verde che di Europa intelligente, chiaramente facciamo sempre riferimento alla digitalizzazione, e quindi l'Europa verde, quindi sempre più misure a basso impatto ambientale, e poi la fornitura di servizi. Dopo questa carrellata praticamente passo all'attività. Mi perdonino i colleghi se parto dal servizio agrometeorologico, però sarà forse io un po' deformato, perché è l'attività che io conduco da un po' di anni, e chiaramente starò qui ad elencare una serie di attività, non parliamo delle attività rutinarie, ma parliamo delle attività che ovviamente più innovative, visto il tema della giornata. La nostra rete si compone di 44 stazioni, chiaramente possiamo tranquillamente espanderci, monitoriamo, io dico, in maniera molto dignitosa, un po' tutte le aree di maggiore interesse agricolo, questo perché la Basilicata ha un problema di variabilità orografica piuttosto elevata, quindi è chiaro che questo è comunque, vi sono delle aree di interesse agricolo, anche se piuttosto limitate, anche nelle aree interne. Quindi, come già è stato accennato, quest'anno abbiamo questa attività di collaborazione con il CNR, per questa attività di spazializzazione, poiché ci consentirà di sganciarci dal valore puntuale, ma di estendere il valore su tutto il territorio, quindi chiaramente stiamo lavorando in questo senso, e questo ritengo poi anche opportuno che venga fatto questo lavoro, poiché sia perché abbiamo una banca data ormai ultraventennale, ma anche perché è necessario fare un adeguamento dello studio climatologico a livello locale, a livello regionale, poiché l'ultimo risale alla fine degli anni Ottanta, quindi sono ben maturi i tempi per aggiornare questo studio e quindi rapportarlo a quella che è la condizione attuale appunto di cambiamento climatico. Quindi poi ci sono anche altre vita che saranno fatte con il CNR. Questa è una figura, questo è più un effetto scenico per farvi vedere proprio la differenza del, chiaramente questa era più rivolta alle persone, agli ospiti che ai lucani. Quindi a questo poi si aggiunge un'altra attività importantissima che con la Certosa e in collaborazione con i colleghi dei Agrobios, quindi con Cellini, questo progetto ISI, che ha lo scopo, con un'altra fonte finanziaria, che ha lo scopo di mettere a punto un DSS, quindi un sistema di supporto alle decisioni sia sull'uso ottimale dell'acqua che della nutrizione, in due culture tipiche dell'area mediterranea. E in questo caso, chiaramente, noi ci confrontiamo, io vorrei mettere in evidenza il fatto che ci confrontiamo con delle società private, poiché noi siamo da supporto tecnico a software house che dovranno produrre questo strumento. E stiamo già predisponendo una serie di attività che saranno realizzate il prossimo anno. Poi, nel 21 sono state realizzate altre attività, quindi finalizzate a migliorare il consiglio riguo per l'elaborato del reframe. Un'altra importante attività è sempre questo legato al fatto al gruppo Agrometeor. Questo gruppo Agrometeor che oggi è, come dire, è di buona volontà, è di associazionismo, ma fa parte di un spirito di collaborazione e di messa in comune delle risorse e delle energie tra i vari servizi agrometeorologici, proprio per armonizzarli. Chiaramente questa azione di regia viene svolta dal CREA, quindi da un ufficio del CREA, e quindi infatti abbiamo partecipato a diversi tavoli, io e Arturo, per quanto riguarda quindi sia la predisposizione di vari documenti, uno fra tutti, questa è una proposta di un sistema agrometeorologico nazionale, unico, quindi, in modo tale da avere, poiché sappiamo benissimo che ogni regione ha il suo servizio, ma ognuno va per suo conto, ha una sua organizzazione purtroppo, essendo nati anche un po', come dire, ognuno, non tutti contemporaneamente, è chiaro che ognuno ha la sua organizzazione e poi soprattutto adesso, quindi c'è una carenza di personale, quindi si cerca di fare economia di scala. Quindi poi ci sono anche altre attività e quindi ho partecipato anche ad un gruppo nazionale per la definizione di alcune linee guida nelle tecniche agronomiche, quindi delle irrigazioni. Poi vedete qui, facciamo parte, anche se non direttamente, collaborato al progetto PSR, tra Sirri, ma servizi fitosanitari, il dottor Capone, quindi questi servizi specialistici che possono essere, che sono praticamente stati delegati dalla regione Basilicata all'Alsia, ai sensi di questa legge regionale. Quindi vi è un servizio di sedi, io vi elenco le varie sigle, sedi, remodi, fitosanitari e seti. Dopo successivamente andrò a elencare quindi un po' quelle che sono le attività più importanti, a cui poi si è aggiunto questo progetto Fitoconsult che negli ultimi mesi ha assorbito molte energie poiché praticamente ai colleghi dell'area, quindi poiché questa misura del 2.1 poiché rappresenta questo servizio di consulenza sull'uso ottimale e quindi soprattutto consigli sulla difesa fitosanitaria. Fitospa. Questo Fitospa non è altro che l'attivazione di modelli previsionali sullo sviluppo di patogene e parassiti. Qui ci sono una serie di modelli, è stato fatto negli anni un intenso lavoro dal gruppo di difesa fitosanitaria perché sono stati validati tutta una serie di modelli che chiaramente girano su un su un invio quotidiano dei dati agrometeorologici. Quindi quello che ecco vi dicevo non parlo qui dell'attività di routine però l'attività di routine è fondamentale affinché si possano erogare questi questi servizi. Ora siamo in una fase innovativa perché siamo in una fase di passaggio a Fitospa 2 quindi con nuove implementazioni questo in collaborazione sempre con la regione Emilia-Romagna. Poi c'è questa attività che anche stamattina è stata già più volte enunciata quella sulla taratura sul controllo funzionale e taratura delle macchine irroratrici poiché vi è questo accordo di collaborazione quindi per mettere insieme le quindi le energie quindi lavorare attualmente con l'Assam e l'Aore quindi in modo tale da svolgere questa attività comune di formazione e di informazione ai tecnici dei centri di prova e in più sull'utilizzo di questo software questa piattaforma informatica quindi il Rora che è chiaramente sempre messa a disposizione dall'Assam. Quindi poi come vi dicevo il processo FITOCONSULT un progetto triennale finanziato da una misura regionale 2.1 in cui l'Alse si prefigge di fornire assistenza a 842 aziende lucane quindi un servizio di consulenza diretta per la difesa fitosanitaria quindi che per dare indirizzi quindi aiuto alla difesa fitosanitaria e poi anche soprattutto su quelle che sono le normative comunitarie relative alla sostenibilità ambientale che è un altro elemento importante poiché non ci dobbiamo dimenticare sempre le finalità della vecchia PAC la PAC attuale ma anche la prossima e comunque la tutela delle risorse naturali e l'uso ottimale delle risorse naturali per quanto questo è un check up dell'attività di fitoconsult chiusa praticamente qualche giorno addietro quindi con 360 aziende che è stata fatta questa analisi a situazione aziendale le consulenze specialistiche effettuate presso 42 aziende con una serie di monitoraggi fenologici e fitosanitari oltre alle consulenze a sportello in più sono state fatte anche delle indagini epidemiologiche sulla presenza di virus su alcune produzioni tipiche quindi il fagiolo di sarconi e il peperone di senise oltre che poi un'importante azione è stata fatta sul controllo della mosca quindi finalizzata sia quindi a dare una serie di consigli sulla eventuale lotta quindi di contrasto alla mosca contenere la diffusione della mosca ma anche per il miglioramento della qualità dell'olio extravergine in collaborazione con l'oprol e poi va bene ci sono anche una serie di prove sperimentali quindi passo alle attività del dottor Ferrari quindi la rete delle fattorie didattiche e sociali come vedete da questo grafico innanzitutto bisogna dire che questa compresa anche l'attività che segue quella del dottor Ippolito sono state fortemente condizionate dalla pandemia poiché sono attività che molte volte si svolgevano si svolgono tuttora quindi in presenza però come vedete il numero è cresciuto siamo giunti ad 81 aziende al numero ultimo in cui ce ne sono 50 che hanno fatto domanda per essere inserite in questo elenco di cui 55 è una provincia di Materia e 26 è una provincia di Potenza di cui buona parte sono aziende anche agrituristiche e quindi sono anche aziende bio e poi un altro elemento da mettere in evidenza è soprattutto che molte di queste aziende sono a conduzione femminile oltre che quindi oltre ad essere familiari quindi lo scopo delle fattorie didattiche è stato quello di evidenziare il concetto di multifunzionalità dell'impresa agricola quindi portare all'interno delle aziende soprattutto le scolaresche attraverso dei concetti come vedete qui dei concetti di pedagogia attiva e quindi con il concetto del fare quindi cioè coinvolgendo i ragazzi a fare proprio manualmente le attività che giornalmente vengono fatte nelle aziende agricole ovviamente poi ce ne sono varie quindi ognuna a seconda del territorio quindi ha una come dire una specializzazione più su una che sull'altra a cui praticamente si è aggiunta anche poi le esperienze rivolte non soltanto ai ragazzi ma anche alle famiglie oltre a questa attività quindi c'è stata anche la collaborazione con il progetto scuola in fattoria e poi anche un sostegno alle tre start-up vincitrici di un premio South-Up poiché queste sono state affiancate nell'azione di sostegno presso alcune aziende agricole tra le quali la fiorita di Matera e poi come vi dicevo questo progetto di agricoltura sociale supreme di importi importanti di cui è stata affidata all'area la parte relativa alla formazione e quindi per l'inclusione sociale quindi rivolta a lavoratori stranieri quindi con la formazione e quindi per avere appunto lavoratori professionali a questo e quindi concludo le attività dell'area quella si aggiunge quella del dottor Ippolito quindi della qualità basilicata di cui ci sono evidenziate quindi queste due importanti attività questi laboratori polifunzionali e ipad i laboratori polifunzionali nasce dall'esigenza poiché vi sono piccole produzioni a mercato locale e quindi vi sono piccole quantità con e quindi molte di queste aziende avevano bisogno di un supporto soprattutto legato agli aspetti normativi e igienico-sanitari quindi di prodotti quindi tanti prodotti a livello aziendale prodotti a livello aziendale e rivolte a un mercato locale con per l'allestimento quindi di piccoli laboratori quindi con spazi modesti e investimenti limitati e poi l'altro importante lavoro è quello relativo al PAT questi prodotti agroalimentari tradizionali che quindi l'individuazione di questi prodotti che sono chiaramente prodotti storici che quindi hanno una tradizione quindi non inferiore a 25 anni quindi questi sono stati inseriti in un elenco nazionale quindi poi è stata fatta anche un'attività di individuazione degli altri prodotti quindi altri potenziali prodotti da inserire in questo elenco con lo scopo sempre quello di fornire un'assistenza soprattutto su quelli che sono gli aspetti della sicurezza quindi igienico-sanitari quindi sull'aspetto della sicurezza alimentare fornendo loro quindi anche un sostegno sulla formazione sulla messa a punto dei disciplinari di produzione e quindi anche poi la formalizzazione su delle deroghe igienico-sanitarie c'è stato fatto anche un lavoro di raccolta del materiale per la produzione di un nuovo repertorio delle strutture di ristorazione e di produzione di qualità oltre che all'aggiornamento dei fascicoli dei prodotti a marchio io con questo credo di essere stato nei tempi ringrazio a voi e a tutti grazie Emanuele bene allora proseguiamo con gli interventi e questa volta tocca l'area comunicazione quindi spero di riuscire a beccare io la mia la mia presentazione come si dice in questi casi a vederla sì buongiorno vi ucciderò buongiorno eccola ci siamo allora sulla sulle attività di comunicazione è stato detto già molto dal dal direttore perché è stata sono state espressamente specificate alcune delle attività salienti dell'area riassunte in quattro schede inserite nel programma annuale per un totale di circa quattrocento mila euro devo dire che questa l'attività svolta da questa da quest'area non si esplica solo in quelle schede quelle sono le attività proprie dell'area che sviluppa quindi specifiche iniziative trasversali e di supporto infrastrutturale anche all'agenzia ma le attività dell'area sono poi presenti in tantissimi dei progetti che voi avete elencato e avete descritto quindi devo dire che da questo punto di vista l'attenzione dell'amministrazione alle attività di comunicazione in senso lato è molto molto alta sia per una questione di obbligo perché alcuni progetti vincolano assolutamente i layout finali alla produzione di una serie di realizzazione di una serie di attività di comunicazione e disseminazione e forse questo potrebbe a volte in alcune amministrazioni basta per riassumere le attività di comunicazione invece l'amministrazione dell'agenzia ha inteso appunto dedicare oltre a quelle partecipazioni e supporti specifici verticali ai singoli progetti anche queste azioni orizzontali di supporto anche infrastrutturale da questo punto di vista è stato citato sono state citate alcune iniziative particolari come quelle legate allo smart working e alla gestione del sistema di videoconferenze quindi di comunicazione interna da questo punto di vista è vero è verissimo quello che dice il direttore noi eravamo già pronti quasi quando è partita la pandemia siamo stati la primissima amministrazione ad attivare i cloud ad attivare tutti i supporti le VPN tutto ciò che serviva questo è storia dell'anno scorso del 2020 però non me la voglio portare qui ma perché parliamo del 2021 ma mi piaceva sottolineare è un fatto fondamentale che anche in quella circostanza di grande emergenza di grande preoccupazione per la salute di tutti devo dire che ci fu una grande sensibilità da parte della direzione che immediatamente attivò tutto quello che si poteva per consentire la gestione della di quella ondata che ci stava travolgendo e quindi di mettere in sicurezza il personale in questo caso io e il dottor Manfredi sul quale cadde principalmente tutta la pressione ovviamente di uno switch tecnologico che passava da tutte le attività in presenza alle attività che erano quasi per il 90 in base al monitoraggio che abbiamo fatto l'81-82% era da remoto e quindi voi immaginate che carico di lavoro ci fu in questa cosa ma tutto questo fu possibile grazie al fatto che avemmo questo grande sostegno morale proprio da parte della direzione che appoggiò tutta questa iniziativa perché la salute dei lavoratori fosse assolutamente tutelata e questo è stato sostanzialmente la linea che è proseguita anche nel 2021 con un concetto fondamentale che si è passata dalla mera presentazione del sistema di information technology che ci portavamo dietro dagli anni precedenti alla transizione al digitale pur essendoci infatti una precisa indicazione che fissava che obbligava le amministrazioni a nominare un responsabile per la transizione digitale in precedenza noi non avevamo l'amministrazione precedente non aveva inteso riconoscere questo ruolo il direttore lo ha fatto con la delibera del 26 marzo del 2021 è stato individuato nell'area comunicazione l'ufficio e il responsabile in questo caso sono io per la transizione al digitale e come obiettivo specifico delle performance del 2021 è stato posto e quindi entro il 31 dicembre del 2021 è stato posto che questo ufficio debba realizzare il piano triennale di transizione al digitale si tratta ovviamente di una base sostanzialmente di un cuscino sul quale si appoggia ogni ulteriore sviluppo tecnologico e di processo dell'agenzia e che diventa strategico anche per tutto ciò che andremo a discutere all'inizio del 2021 con la programmazione che questa volta si unifica in un unico piano che dovrebbe riassumere tutti gli strumenti di programmazione degli enti e che ovviamente porterà in dote anche il famoso pola con che ed ecco perché parlavo dello smart working prima che quindi come diceva il direttore diventerà uno strumento ordinario di lavoro ovviamente disciplinato secondo quello che le norme e il buonsenso suggeriscono quindi ho scelto insieme al dottor Manfredi al dottor Binetti alla dottoressa Lombardi ho scelto alcune delle attività più significative sul piano dell'innovazione che sono state sviluppate nel 2021 nell'ambito di queste premesse che appunto ho fatto una delle più eclatanti che ha visto la luce proprio pochi giorni fa è la famosa app Agrifoglio cioè una vera e propria un applicativo scaricabile sui cellulari che abbiamo voluto chiamare Agrifoglio perché Agrifoglio è la mosca cucchiera è la storia della comunicazione nell'agenzia cioè è la sua il suo strumento più rappresentativo è pubblicato dal 2004 è arrivato pochi giorni fa la pubblicazione del numero 105 quindi abbiamo inteso dare al sistema di comunicazione attraverso questi strumenti tecnologici il nome di Agrifoglio ma ovviamente sugli store sia di Android che di IOS perché è stato sviluppato per entrambi i sistemi operativi ovviamente l'applicativo si trova come Alsea Basilicata ovviamente come app Alsea questo applicativo va a integrare il nostro sistema di comunicazione che si basava fino a poco tempo fa su due macro sistemi quello legato al sito web su cui sapete bene che gira anche la nostra intranet e quello dei canali social l'app Agrifoglio diventa praticamente un terzo una terza zampa di questo di questo sgabello e che sostiene un po' gli strumenti di tutta la comunicazione esterna dell'agenzia ma come vedremo tra un po' non è soltanto quella esterna o comunque ha degli applicativi ha delle applicazioni che sono in realtà particolari come dicevo lo sviluppo per entrambe le piattaforme ovviamente si scarica in maniera del tutto gratuita l'accesso l'accesso all'applicativo è esattamente uguale a quello che avviene che è disciplinato per le pubbliche amministrazioni la mail le password per le aziende lo speed per i privati ovviamente questo sappiamo bene che porta una serie di difficoltà molte c'è un ritardo nella capacità di molti privati di adeguarsi all'obbligo dello speed c'è una certa resistenza e quindi bisogna fare anche una sorta di opera di accompagnamento ma ovviamente dalla norma noi non possiamo prescindere quindi dobbiamo per forza mantenere questo vincolo e questo obbligo dello speed per i privati la fruizione dei contenuti di questo applicativo è quindi mista è libera esattamente come accade per il nostro sito è libera per alcuna parte dei contenuti riferiti alle news riferiti agli eventi eccetera ed è avvene invece attraverso una semplicissima iscrizione come per il sito per accedere poi ai servizi che noi stiamo erogando su questa cosa vi prego di di farla vostra e quindi poi di poter riportare perché voi siete sul territorio voi siete le nostre antenne sul territorio a chi poi si iscrive a questo servizio a questi servizi cerca di iscriversi di riportare la necessità per noi che questa iscrizione venga fatta l'iscrizione è gratuita è un piccolo adempimento dove purtroppo ci si confonde un po' perché l'utente deve per forza ricevere una mail di conferma dal sistema sulla quale deve cliccare per chiudere il cerchio esattamente come accade per qualsiasi iscrizione e qualsiasi altro sistema il problema è che se noi non abbiamo questa iscrizione noi non sapremo mai quante persone effettivamente fruiscono di quei servizi questo dato non è un dato di poco conto per tutti i vostri monitoraggi per dare un senso e un corpo a tutte le attività che voi svolgete sul territorio parlare solo di accessi dato che comunque noi abbiamo è un conto ma parlare di persone che sono iscritte a un servizio è un altro conto perché dà valore alla nostra presenza e ci consente anche di capire in che misura certi servizi debbano essere ulteriormente spinti o debbano essere tagliati perché assolutamente non utili la sorgente dei dati di questa di questa app è ovviamente la banca dati unica degli utenti voi sapete bene che vi abbiamo stressato abbastanza nei mesi precedenti perché ognuno di voi ci consegnasse i suoi fogli Excel la sua banca dati più o meno personale il lavoro di pulizia di tutti i dati ridondanti non è stato semplice oggi siamo riusciti ad avere questa banca dati unica nella quale confluiscono tutte le nuove iscrizioni che man mano arrivano ai servizi quindi chiaramente questa banca dati è la medesima sia per il sito che per la app questo che cosa vuol dire che se uno si iscrive da una parte usa le stesse credenziali di accesso ovviamente per l'applicativo che diventa semplicemente una modalità diversa più snella ovviamente di ricevere le informazioni soprattutto perché perché esattamente come avviene per qualsiasi app riceve cosa? riceve le notifiche riceve la notifica dell'aggiornamento per il momento il sistema di notifiche attivato è generale quindi qualunque sia la sezione nella quale avviene l'aggiornamento riceve una notifica però adesso stiamo già lavorando per un sistema di notifiche differenziato in modo che l'utente possa decidere di essere aggiornato solo per gli eventi dico per dire e non per tutto il resto questa è la home page diciamo così la home della app che come dicevo si compone di come vedete in basso di 5 sezioni una di queste però è suddivisa ulteriormente e che nella home riprendono esattamente le news cioè questo è l'elenco delle notizie che noi troviamo sul nostro sito la prima quella di apertura di apertura e la la prima è quella di in evidenza posta in evidenza sul scusate che succede no io no dicevo quindi che la la home riprende le notizie e quella che appare sopra è la notizia in evidenza e qui ci sono tutte le altre notizie poi abbiamo la sezione agrifoglio propriamente detta che è la parte del delle delle riviste dove trovate tutti i numeri pubblicati delle riviste cliccando qui si accede ovviamente alle alle singole riviste poi c'è la sezione eventi anche in questo caso poi c'è la sezione bollettini la sezione bollettini vedete ha due subsezioni una che è quella fitosanitario qui c'è un menu a rullo praticamente che si scorre con i i i le i comprensori per i quali noi emettiamo il bollettino stessa cosa per il bollettino agrometeo e qui trovate le settimane di pubblicazione o comunque di periodi di riferimento del bollettino stesso ovviamente questo vedete c'è il lucchetto e questo è il segnale che l'accesso è ovviamente previa registrazione nell'ultima sezione quella dei dati meteo troviamo la stessa cosa riferita anche qui alle singole stazioni quindi troviamo tutte le informazioni delle delle stazioni meteo che abbiamo nella apposita sezione del del sito quindi come vedete c'è uno spaccato di tutte le notizie più essenziali quindi le news la rivista gli eventi e tutto i servizi fitopatologici dei bollettini e del fitopatologico e bollettini agrometeo e i dati meteo stessi ci sono però delle evoluzioni una di queste evoluzioni è già dettata da questo vedete ve la faccio vedere qui vedete questo simbolo che c'è qui in alto a destra questo simbolo cliccando lì sopra dà l'accesso a un lettore integrato di QR code quindi questo dà la possibilità stando all'interno dell'app di accedere attraverso questo lettore a tutte le informazioni aggiuntive che noi applichiamo attraverso i QR code nei manifesti negli itinerari lo abbiamo fatto per gli itinerari della biodiversità lo faremo anche per gli eventi eccetera quindi leggendo lì si accede automaticamente alla pagina del sito nostro dove sono caricate n informazioni questa quindi è già una parte operativa un'altra parte che si sta però sviluppando è quella che non è stata completata ancora è quella riferita alla accessibilità questa viaggia di pari passo con il sito web e in corso sono gli adeguamenti e contiamo di completarli entrambi per gennaio 2022 una prima evoluzione applicativa di cui abbiamo già parlato con il dottor Caponero più volte è quella collegata alla sezione alert difesa che dovrebbe sostituire quella oramai obsoleta come tecnologia non certo come servizio che è quella che noi chiamavamo fino ad ora che chiamiamo ancora alzi a sms piuttosto che passare ad un sistema attraverso l'invia dei messaggi dei messaggi whatsapp oggi invece veicolare attraverso l'app tutte queste informazioni quindi inserendo una sezione accanto a bollettini sia fito che agro agrometeo inserire una sezione sms con il sistema di notifica diventa una cosa assolutamente più efficace perché noi veicoliamo attraverso un unico sistema che la persona abbia o non abbia whatsapp quindi senza intasare i sistemi di messaggeria gli diamo l'informazione direttamente con lo smart poi c'è la questione del fascicolo digitale dell'utente che è un sistema molto particolare diciamo così che dovrebbe consentire poi all'utente stesso di conservare nel sistema tutta una serie di informazioni che lo riguardano e che sono di particolare interesse per lui e ovviamente per noi perché in questa maniera riusciamo a profilare i suoi interessi prevalenti la la schermata diciamo così alla quale stiamo lavorando è questa cioè dare la possibilità di accedere al quindi a una sezione che identifica digitalmente l'utente e che può ovviamente cambiare le informazioni sul suo del suo profilo inserire tutte le preferenze dei vari servizi quali sono andare a individuare quali siano i temi di suo prevalente interesse gli eventi per i quali vuole ricevere la a i quali ha partecipato perché viene registrato attraverso questo sistema di lettura automatica del suo QR code quando arriva quando si reca in un ad un evento e poi quindi un sistema che tiene memoria dei suoi interessi ai quali lui può aggiungere altre preferenze che vengono registrate al sistema in modo da come dire differenziare anche l'offerta laddove noi riusciamo a riprendere a pieno tutte le attività in presenza o a distanza soprattutto quelle in presenza speriamo sul sul territorio velocemente passo al resto e sono state già citate questi aspetti che sono legati alla digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti uno è quello che è stato citato a proposito del procedimento di iscrizione all'elenco degli avvocati e procedimento di gestione dell'affidamento in carichi legali sviluppato in tesa con l'ufficio legale dell'Alzia del quale però non entro sul quale in cui dettagli non entro perché nel caso saranno sviluppati da altre aree ma questo è stato uno dei delle linee di supporto che noi abbiamo dato ma quello che mi stava poi è stato citato quello del sistema delle performance anche quello della dell'anticorruzione ma al di là di questo c'era un altro aspetto che mi premeva molto sottolinearvi questo della deliberazione 127 del 18 novembre del 2021 è l'ultimo che vorrei sottolinearvi è la delibera con la quale si è approvato il progetto di messa in sicurezza del primo stralcio per la messa in sicurezza del nostro archivio storico prima lo ha citato il direttore aggiungo questo fatto si tratta di un intervento della portata di 100.000 euro negli ultimi 25 anni cioè da quando è stato notificato dalla sovrintendenza dei beni archivistici l'archivio storico della riforma fondiare cioè la parola notificato per i non addetti ai lavori è il riconoscimento ufficiale dell'esistenza di un archivio storico e quindi l'annotazione di questo archivio in un elenco tenuto dalla sovrintendenza che quindi riconosce il valore storico e quindi culturale come bene culturale del nostro archivio della riforma ebbene da 25 anni questo è il più grosso intervento mai autorizzato di messa in sicurezza sul nostro archivio per il resto avevamo sempre c'è qui testimone la signora Pietrantonio che ha lavorato con me molti anni proprio sull'archivio sa bene che noi abbiamo sempre dovuto ricavare dalle famose pieghe del bilancio piccole risorse per piccolissimi interventi l'anno scorso ci fu un bel intervento pilota che ha riguardato soprattutto la zona di Policoro siamo riusciti anche a fare una certa dematerializzazione di quei documenti cioè la scansione proprio ma adesso partiamo con un progetto nuovo un progetto che vede un punto primo l'acquisto di un software dedicato finalmente specifico per l'archiviazione quindi non più foglie Excel che vanno scappando ma un software che memorizza secondo le norme previste dalle procedure archivistiche tutte le informazioni sui documenti del nostro archivio storico e soprattutto provvede ad abbinare a quelle informazioni anche una copia scansionata ufficiale di quel documento per preservarne la scomparsa laddove il deterioramento del tempo dovesse appunto renderlo inservibile punto secondo viene aggredita in maniera sistematica attraverso una procedura di catalogazione proprio la documentazione in nostro possesso prima prima zona dove verrà fatta questa attività è il Pantano l'ex caseificio che ospita purtroppo in maniera così approssimativa per quello che si è potuto fare fino ad ora una gran parte di documentazione quindi quello sarà il primo nucleo che sarà aggredito e poi tutto il materiale che servirà al metto di quello che sarà scartato e quindi macerato secondo le procedure sarà poi portato a Pantanello dove proseguirà dove c'è l'altro lo zoccolo duro del nostro archivo e dove procederà l'attività di catalogazione e di scarto per alleggerire poi quei due enormi depositi che attualmente purtroppo faticosamente contengono questo materiale io vi ringrazio adesso tocca alla gestione all'area gestione di forma fondiare patrimonio appalti e lavori non so se ci sia qualcuno in sala o da remoto da remoto da remoto salve ingegnere Capece un attimo che attivo ecco prego buonasera a tutti insomma per me è quasi imbarazzante intervenire dopo aver sentito tutte queste belle cose della giornata con il sesso così qualificato però mi inorgoglisce già la mia semplice partecipazione aver appreso tante cose che ignoravo aver vissuto una specie di idillio sia pure condito da una buona forma di giusta inevitabile autoreferenzialità ma quando a fine giornata con gli ascoltatori anche un po' stanchi interviene uno che si occupa di argomenti un po' particolari tipo ingegneria che di innovativo ovviamente non può avere molto nell'arco di un anno anche perché il settore dell'ingegneria si fonda sul rispetto rigoroso di leggi che non fa l'Alsia che non fa la regione basilicata che non facciamo noi comuni mortali e per altro verso si occupa di patrimonio di riforma fondiaria in particolare che è un argomento palesemente avulso dal contesto della giornata rischia poi di far scivolare quella forma di idillio in una forma di pragmatismo di trascinare diciamo il tutto e tutti nella realtà che è sempre molto più amara sempre molto più triste di come le belle aspettative potrebbero far sperare di cosa potrei parlare di riforma fondiaria si potrebbe spiegare come l'Italia è fondata sulla riforma fondiaria la riforma fondiaria ha fatto l'Italia ma l'Italia non l'ha mai saputa fare non l'ha saputa fare l'Italia come nazione se non nella parte iniziale non l'ha saputa fare probabilmente manco tanto bene la regione basilicata di parti innovativi inerenti alla riforma fondiaria potrei parlare del testo di legge che è stato pubblicato oggi l'ultima legge partorita dalla regione basilicata che purtroppo ma io lo dico con tanta umiltà non credo possa essere dirimente non credo che possa essere risolutiva di taluni aspetti anzi se letta come faceva un collega qualche ora fa sembra che l'asserzione fatta dal direttore in mattinata sulla riforma fondiaria cioè come attività che sembra che non debba avere mai fine potrebbe essere un'asserzione da Cassandra ma destinata a realizzarsi parlando di questo argomento si potrebbe parlare se non ciolare numeri ma sarebbero anche antipatici a quest'ora potremmo dire che abbiamo ancora 3500 ettari di terreno diciamo liberi o pseudotali da immettere sul mercato abbiamo 1500 ettari di terreno sempre agricoli sto parlando di quelli agricoli già oggetto di contratti di assegnazioni che bisogna però portare a conclusione abbiamo circa 3000 2800 ettari di area forestale che bisognerebbe gestire in maniera adeguata abbiamo circa 460 fabbricati in termini di unità immobiliare di tipo extraagricolo cioè non più utilizzabili per fini agricoli ne abbiamo circa 140 di tipo agricolo ne abbiamo un migliaio su terreni su suoli edificabili realizzati da terzi che comunque sono un problema da gestire abbiamo circa 150 ettari frazionati in un numero enorme di particelle di terreno edificabile un ettaro di terreno edificabile sono 10.000 metri quadrati tenete conto che un suolo edificabile ha una pezzatura di 300 400 500 metri quadrati ma anche di 200 quindi possiamo immaginare il numero quindi abbiamo un volume di lavoro da svolgere enorme avrei da gestire 5 uffici periferici e questo patrimonio non va solo dismesso ma ovviamente nelle more della dismissione andrebbe gestito e qua però nascerebbero dei problemi se io mi dilungassi in queste perché perché il settore tecnico che io gestisco oggi è formato da un ingegnere oltre a me da un ingegnere e da un geometra fra l'altro il geometra non ha manco un'esperienza storica in questo settore e fra l'altro è destinato a svolgere azione part time nel settore tecnico che io gestisco perché si deve occupare anche di altro nel settore patrimonio ha premetto che in sostanza il settore tecnico il settore patrimonio fino a un paio di decenni fa era lente di sviluppo che contava poco meno di 200 persone nel settore patrimonio io pur avendo dovendomi far carico della gestione di 5 unità periferiche ho in totale 4 persone utilizzabili quando dico 4 non è un numero generico sono proprio 1 2 3 4 finito ho altro personale che mi è stato aggiunto ultimamente in fase di addestramento quindi dico sarei un pochettino disallineato dal clima della giornata e per esserlo non mi dovrei porre un problema che mi ha fatto nascere il direttore oggi che dice guardate se un giorno un nostro caro un figlio ancora più caro mi dicono io non ne ho i nipoti ci dovesse fare la fatidica domanda ma tu che cosa hai fatto in data 2 dicembre 2021 pieno periodo cori già farei una figuraccia a dire guarda sono stato così fifone che non mi sono sentito di dare una mano al covid e non ho partecipato a questa bella riunione in presenza ma non vorrei anche dover dire che ho raccontato bugie no e allora per restare in tema perché il clima simpatico bellissimo che mi onora e mi rallegra mi fa vivere finalmente diciamo sotto il profilo lavorativo un momento di grazie no io vorrei essere esonerato dal fare un intervento ma questo anche per rispetto alla direzione che deve concludere e siamo praticamente se non sbaglio a circa 20 minuti dalla scadenza temporale della giornata quindi io se il padre eterno mi aiuta e il covid mi risparmia vorrei fare un bel intervento l'anno prossimo specie se il direttore mi garantisce che oltre a invitare dei luminari del settore specifico di cui ci occupiamo invita pure due o tre pastori sardi qualche contadino lucano qualche cafone per tirarla anche sul colto insomma di siloniana memoria qualche nobile imprenditore agricolo del nord per dare anche a loro la possibilità di dire la loro in un certo qual modo far pesare effettivamente il livello di utilità delle nostre attività ecco io mi sentirei più compreso ad agire in un consesso qualificato anche in questo modo e quindi ove mai dovesse essere accolta la mia richiesta questo intervento di stasera mi risparmierei qualche minuto stasera per farlo l'anno prossimo se siete d'accordo ecco io avrei finito ok allora a questo punto procediamo con gli altri interventi adesso c'è la relazione dell'area programmazione e sviluppo la dottoressa Rosanna Caraggiulo dirigente dell'area ad interim cerco di trovarla buonasera a tutti cercherò un po' di recuperare tempo perché insomma ci sono anche diversi colleghi che devono andare via e sono devono viaggiare allora un attimo solo sì un attimo aspetta aspetta e questo sta facendo le bizze sì parlo un po' velocemente dell'area anche dell'area affari generali finanziari che quest'anno ha subito un colpo forte per tutte le attività che sono arrivate di colpo dalla regione in seguito al trasferimento del personale di tutto il personale affrontato dal primo gennaio insomma è stato un anno pesante molto pesante da tanti punti di vista siamo riusciti comunque a fare tutto quello che c'era da fare con notevoli difficoltà ma ce l'abbiamo fatta abbiamo firmato il contratto decentrato integrativo lo scorso lunedì veramente con tanta sorpresa in realtà abbiamo impiegato poco tempo nel fare il contratto decentrato integrativo c'è stata molta disponibilità da parte di tutti l'amministrazione è stata molto disponibile questa disponibilità dell'amministrazione è stata riconosciuta anche dai sindacati che naturalmente devono fare la loro parte però poi alla fine hanno riconosciuto la bontà di tutta l'attività quindi abbiamo portato a caso un bel contratto decentrato nel quale abbiamo ripartito tutti gli istituti contrattuali a disposizione a disposizione questo grazie anche al fatto che trovandoci verso la fine dell'anno alla fine dell'anno abbiamo diciamo considerato lo speso ad oggi e quindi ripartito rispetto alla DGR 60 della regione ripartito meglio le risorse finanziarie a favore dei dipendenti e sono stati messi a disposizione quindi nella maniera adeguata ripeto tutti gli istituti contrattuali e diciamo le somme a disposizione sono state messe in favore della produttività del personale e c'è stato anche un aumento delle indennità delle somme a favore delle posizioni organizzative quindi delle indennità di risultato l'area amministrativa è fortemente sottodimensionata penso un po' come tutta un'amministrazione è fortemente sottodimensionata per cui stiamo cercando stiamo spingendo al massimo nella informatizzazione perché abbiamo stiamo utilizzando l'app da poco tempo l'app sulla rilevazione delle presenze che forse per voi può sembrare banale però per l'ufficio è davvero molto utile perché io come dirigente la trovo utilissima e sono tra quelle un po' più restie ad aprire in continuazione il computer perché do le autorizzazioni tramite lo smartphone per cui è veramente una cosa velocissima è un'autorizzazione che viene data molto velocemente e poi c'è l'immediata iscrizione dei dati nel software della rilevazione delle presenze e poi abbiamo stiamo iniziando ad utilizzare il software del piano della performance sperando che anche questo ci sia di aiuto e anche che un attimo solo perché c'è un c'è un rimbombo scusami Sergio forse devo far scorrere no si sente come la mia voce come un eco vabbè non eccheggio più no va bene un'altra un'altra app che ci dovrebbe essere di aiuto è quella di PagoPian a parte che come ben sapete è uno strumento messo a disposizione di tutti i cittadini per poter effettuare i pagamenti presso le pubbliche amministrazioni diciamo che l'innovazione la nostra innovazione sarà quella di collegare poi i pagamenti fatti dai cittadini direttamente al sistema contabile per cui verranno immediatamente diciamo incassati fatti questi incassi e messe le reversali sui capitoli quindi questo per quanto riguarda l'area affari generali e finanziari per quanto riguarda invece l'area programmazione e sviluppo allora sapete che tutte le attività dell'area programmazione e sviluppo sono svolte in sette aziende sperimentali sparse sul tutto il territorio e sicuramente l'obiettivo della di avere queste aziende sperimentali su tutto il territorio è sicuramente quello di raccogliere le istanze da parte degli stakeholders quindi intuire le esigenze del territorio attraverso un confronto tra i responsabili delle aziende e ripeto gli stakeholders per poi dirigere le attività nella nella maniera più adeguata allora abbiamo sappiamo quali sono le aziende sperimentali nostre abbiamo l'azienda Bosco Galdo la volontà dell'amministrazione è stata quella innanzitutto di specializzarle in maniera tale che ognuna di loro avesse un particolare comparto da gestire allora l'azienda Bosco Galdo sì ok bene l'azienda Bosco Galdo è a supporto della vitivinicoltura e sono segnalati quelli che sono i progetti più importanti c'è la produttività e sostenibilità in vitivinicoltura l'applicazione ed innovazione di prodotti e di processo per lo sviluppo della filiera del latte in Basilicata per la produzione di formaggi Lucani e Lucani i cosiddetti formaggi Lucani Plus invece l'azienda Gaudiano è specializzata nella cerealicoltura e nelle culture industriali da quest'anno c'è c'è un campo c'è un progetto dedicato alla canapa poi c'è la gestione culturale sostenibile per la standardizzazione delle tecniche riproduzioni di cereali Lucani e l'ottimizzazione dell'input per la sostenibilità della cerealicoltura sempre in Lucania e questi sono dei progetti Melfi invece è a supporto dell'olivicoltura anche qui ci sono due progetti l'individuazione ed innovazione e trasferimento lungo la filiera olivo-olio per sostenibilità e qualità dei processi e dei prodotti e la ottimizzazione della reddittività e della gestione dell'olivete e dei processi produttivi dell'olio lucano poi c'è la recente azienda di recente costituzione l'azienda di Nemoli che è a supporto della forestazione e della produttività nell'acquacoltura per quanto riguarda l'azienda di Nemoli una riflessione in più riguarda questo progetto della truta autocotora lucana perché come ben sapete questo progetto è partito con l'idea di capire se ci fossero delle trutefario nei fiumi lucani innanzitutto quello perché c'erano dei grossi dubbi sulla possibilità che ci fossero ancora queste trute autoctone e poi si è inserita anche l'università di Basilicata perché ha voluto sperimentare una farina di insetto una farina proteica di insetto e quindi per diciamo al fine di dare la migliore nutrizione a questo pesce dopo le catture che sono state fatte recentemente Filomena Carriero con le sue indagini è riuscita a trovare 25 esemplari di protafario e questo diciamo è una è un grosso risultato perché sinceramente gli stessi ricercatori dell'università erano piuttosto erano erano increduli insomma non pensavano che ci fosse questa truta nei nostri fiumi e quindi già questa questo progetto ha avuto un buon risultato poi abbiamo l'azienda di Pantanello nel Metapontino che è a supporto dell'ortofrutta e delle colture alternative quindi ha due progetti in particolare Tino Gepra e Nutrife il primo riguarda il trasferimento tecnologico di innovazioni gestionali delle pratiche agricole negli ecosistemi ortofrutticoli della drupacea dell'uva da tavola gli agrumi fragole peperone aglio e la sostenibilità degli ecosistemi ortofrutticoli di fertilità dei suoli e nutrizione poi c'è l'azienda Pantano che si è a supporto della foragicoltura della corriglicoltura dei danni da fauna selvatica anche loro stanno facendo un progetto sulla valorizzazione dei reflui zootecnici mediante l'utilizzo dell'insetto bioconvertitore Hermesia e Lucens anche loro sono interessati con il progetto Feed Insect nella produzione e utilizzo di farete di farine ed insetti per l'alimentazione animale l'azienda Pollino stasera inviterò i colleghi dell'azienda Pollino di Pantanello a parlare diciamo a raccontare meglio tutto quello che è successo quest'anno azienda Pollino tutti sappiamo che è interessata e porta avanti l'attività nell'ambito della biodiversità che è un un argomento molto sentito sicuramente molto molto forte e molto importante perché come sapete sicuramente lo sapete molto meglio di me la biodiversità in Italia la biodiversità italiana è quella più importante in tutta Europa cioè la biodiversità vegetale e la biodiversità animale è sicuramente è sicuramente migliore rispetto a tutte le altre nazioni europee per cui veramente è un patrimonio che dovremmo imparare a custodire perché è davvero davvero molto importante e l'azienda Pollino si è specializzata in questi anni in tutte le attività della biodiversità attraverso anche a parte la caratterizzazione e la conservazione di antiche varietà di fico nocciolo melo pero delle drupacee ha un'importante banca del germoplasma dove custodiamo i semi le diverse accessioni sicuramente sarà in grado di dirle domenico semi banca del germoplasma che è riprodotta anche nell'IBBR di Bari per cui diciamo queste sementi sono conservate in entrambe le banche del germoplasma per custodirle con maggiore sicurezza allora io ho finito ho cercato di essere velocissima e passerei la parola al dottor Gerbino considerato che deve anche viaggiare grazie buonasera a tutti naturalmente accanto alla biodiversità la dirigente dimenticava ci occupiamo anche di pianto officinale per cui era doveroso dirlo perché anche quella è un'attività importante nel settore regionale allora posso parlare ok allora naturalmente questa relazione è condivisa anche con il collega Zienna e con i colleghi dell'azienda Pollino naturalmente è scondato anche la condivisione della dirigente allora io molto brevemente cercherò di illustrarvi diciamo questa esperienza che stiamo facendo per quanto riguarda la valorizzazione della dell'agrobiodiversità e attraverso questo modello operativo che cerca di valorizzare tutta la biodiversità agricola e di interesse agricola e alimentare e attraverso il settore turistico e ricettivo dell'area sud della Basilicata naturalmente per costruire tutto questo progetto questo modello ci sono voluti un po' di anni e quindi io molto velocemente vi spiegherò un pochino i percorsi che noi abbiamo immaginato e poi realizzato nel corso di questi anni per arrivare poi a questa a questo diciamo a questa parte finale che rappresenta il secondo itinerario dei prodotti agricoli e agroalimentari dell'area sud allora è così ok allora il tutto inizia cercherò di essere molto breve inizia qualche anno fa con il lavoro di censimento che noi abbiamo fatto attraverso una sollecitazione da parte dell'ente parco del Pollino che ci ha chiesto di poter censire nel versante lucano tutte le risorse genetiche di carattere diciamo tutto il materiale diciamo in via di estinzione nel settore frutticolo orticolo e cerealicolo naturalmente questo lavoro l'abbiamo fatto attraverso un metodo denominato ecogiografico che ci ha consentito di poter censire tutte queste risorse georeferenziando un pochino tutte le piante che noi abbiamo poi censito questo metodo ci ha permesso poi di elaborare una serie di mappe e di carte che ci hanno in qualche modo permesso di poter determinare una serie di parametri che poi nel seguito dalle attività sono state utili per poter determinare anche il livello di erosione genetica questo metodo poi noi l'abbiamo esteso anche nell'area sud quindi abbiamo completato tutta l'area sud attraverso questa metodologia e successivamente abbiamo esteso questo lavoro anche al resto della Basilicata per cui non utilizzando più questa metodologia che dicevo prima ma abbiamo utilizzato una metodologia spot a segnalazione vi voglio segnalare questo lavoro che stiamo terminando proprio quest'anno che è quello del censimento di patriarche da frutto che ha visto il monitoraggio di questi patriarchi un po' in tutta la Basilicata questa foto vi fa vedere un pochino come a macchio di Leopardo la presenza di tutti questi patriarchi naturalmente la nostra preoccupazione è stata quella poi di di mettere in sicurezza tutto questo materiale l'abbiamo fatto attraverso la realizzazione di una serie di siti di conservazione presso il nostro centro presso gli agricoltori custodi abbiamo realizzato una rete di questi agricoltori custodi abbiamo costituito anche l'associazione Vavilov e in qualche modo siamo riusciti nel corso di questi anni a mettere in sicurezza tutto questo materiale vi voglio anche segnalare questa esperienza che diciamo dei trattori dove siamo riusciti a trasferire tutto questo materiale censito in questi ambienti seminaturali in presenza di porti innesti di selvatico dove abbiamo trasferito tutto il materiale e qui vedete questa foto dove diciamo si vede un po' la presenza di centinaia di innesti che noi abbiamo fatto e quindi anche questa metodologia a basso impatto ambientale ci ha consentito di trasferire e mettere in sicurezza tutto questo materiale naturalmente questi trattori noi li abbiamo realizzati diversi e soprattutto abbiamo realizzato questi siti lungo dei trattori e lungo dei percorsi religiosi per dare visibilità poi di queste attività al turista all'appassionato e quindi diciamo è stato un altro momento di visibilità di questa biodiversità naturalmente e questo per la parte della parte frutticola mentre per la parte orticola come è stato più volte detto abbiamo istituito da noi la banca del germoplasma che ormai conserva più di 400 accessioni e questo materiale proviene ormai non solo dall'area sud della Basilicata ma un po' da tutta la regione quindi da tutto il territorio regionale e a questo è seguito tutta un'attività di caratterizzazione biagronomica fenologica secondo le linee del 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 ministero è stato fatto anche un lavoro di caratterizzazione genetica per molto di questo materiale siamo in grado per l'anno prossimo di poter dire che tutto il il materiale frutticolo dell'area sud è stato diciamo monitorato anche da un punto di vista genetico tutto questo ci ha permesso di poter iscrivere questo materiale nel repertorio regionale in base alla legge della biodiversità e questo 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 repertorio regionale come sapete è stato poi conferito nell'anagripe nazionale siamo tra le regioni che ha un numero di accessione di specie e varietà diciamo abbastanza elevato siamo tra le prime regioni in Italia ad avere questo patrimonio e se a questo poi aggiungiamo tutto il materiale che dovremmo poi iscrivere possiamo dire che la nostra regione sotto questo punto di vista è stata molto diciamo attenta e virtuosa naturalmente abbiamo fatto anche questo ci ha permesso di tutelare questo materiale però abbiamo anche iscritto delle varietà di cereali al registro delle varietà da conservazione e siamo stati tra le poche regioni in Italia forse al sud della prima che in deroga all'attività sementiera abbiamo ottenuto la possibilità di poter moltiplicare il miscuglio di carosella lucana già sono tre anni che certifichiamo questo grano questo miscuglio che noi distribuiamo ai nostri produttori e questo ci ha permesso di in qualche modo di valorizzare e dare maggiore peso alle micro filiere presenti sul nostro territorio ve le voglio segnalare solo un paio quella della carosella del pollino e quella della segale e questi produttori utilizzano questo seme certificato e naturalmente accanto a questa azione è stata fatta anche un'azione di promozione e questo ci è venuto di d'aiuto la legge nazionale perché dovete sapere che in Basilicata c'è la prima comunità del cibo è stata la prima comunità del cibo istituita in Italia è un piccolo primato ma che rappresenta uno strumento importante per promuore valorizzare e tutelare la biodiversità questa è un'aggregazione di soggetti pubblici e privati che concorrono insieme a promuovere l'agrobiodiversità della Basilicata accanto a questo abbiamo presentato il primo itinerario è stato anche il primo in Italia in base alla legge 194 dove che cosa abbiamo fatto abbiamo messo in rete tutti gli agricoltori custodi in Basilicata ce ne sono una sessantina che sono iscritti come siti di conservazione in base alla legge regionale e questi agricoltori diciamo sono stati diciamo in qualche modo individuati in tutti i comuni e il loro compito è stato quello di conservare tutte quelle varietà tutte quelle specie che sono iscritte al repertorio la finalità di questo itinerario è stata quella di diciamo di far conoscere al turista all'appassionato a chi viene sul nostro territorio anche i luoghi dove si conserva la biodiversità quindi questo primo itinerario l'abbiamo condiviso anche con le guide perché l'obiettivo di questo itinerario è quello di diciamo di farlo conoscere e utilizzare poi i soggetti che possono in qualche modo valorizzare questi questi percorsi attraverso appunto questi signori naturalmente a ogni agricoltore è stato dato per chi visita il nostro territorio ogni tanto vede delle tabelle che sono poi sostanzialmente le tabelle che identificano i siti di conservazione sono questa tabella dove naturalmente attraverso il telefonino perché è stato realizzato anche un sito c'è la possibilità di poter scaricare prima ancora di entrare nel sito di conservazione tutte le informazioni dell'agricoltore custode addirittura c'è anche la faccia dell'agricoltore custode che racconta queste queste informazioni e abbiamo realizzato sul territorio una serie di bacheche abbiamo messo ubicato una serie di bacheche che servono diciamo a informare diciamo i turisti le persone abbiamo realizzato poi una serie di opuscoli come informativi diciamo e naturalmente su questo materiale c'è il codice per cui uno può scaricare questa informazione prima ancora di entrare nelle aziende accanto a questa attività e mi avvio piano alla conclusione abbiamo fatto un censimento di tutte le produzioni agroalimentari quindi noi che cosa abbiamo fatto nel corso di questi anni siamo andati comune per comune a individuare se erano presenti dei prodotti tradizionali l'abbiamo fatto con le amministrazioni con le proloco con gli agricoltori e il nostro obiettivo era quello di censire accanto alla biodiversità agricola anche tutte le produzioni agroalimentari perché ci eravamo resi conto che erano prodotti che stavano scomparendo non c'erano più le ricette di una volta e quindi il pericolo di non trasferire alle nuove generazioni tutti quei sapori che purtroppo non erano più diciamo possibili assaporare e quindi noi siamo andati comune per comune diciamo a censire questi prodotti abbiamo avviato per questi prodotti il riconoscimento dei prodotti PAT come prodotti PAT e l'obiettivo era quello di definire un po' la gastronomia perché si parlava di prodotti tipici di produzione agroalimentare quindi questo ci ha servito in qualche modo a definire un po' la gastronomia ma soprattutto ci ha permesso di avviare un altro percorso che era quello della valorizzazione e il risultato è stato questo in tutti i comuni dell'area sud c'è almeno un prodotto riconosciuto abbiamo recentemente pubblicato nel quaderno Alsea tutto questo materiale e possiamo dire che il nostro territorio è un territorio ricco di prodotti agroalimentari su 163 probabilmente più di 85 86 sono quelli di quel territorio del nostro territorio e quindi questa pubblicazione l'abbiamo fatta anche per un'altra finalità che era quella da da utilizzare per il secondo itinerario che io mi avvio a presentarvi allora questo secondo itinerario nasce perché c'è stata questa sollecitazione del parco inizialmente ma che poi ha avuto la possibilità di avere una serie di risorse aggiuntive all'interno progetti del ministero per mettere insieme che cosa tutti gli operatori diciamo dell'agrobiodiversità e quindi parliamo di agricoltori custodi di produttori di trasformatori e anche di trasformatori e di ristoratori e questo l'abbiamo fatto in maniera molto semplice due anni fa abbiamo fatto un avviso pubblico abbiamo chiesto al territorio chi era interessato a partecipare e la cosa interessante è stata che noi non abbiamo detto cioè la cosa che abbiamo detto è che non c'erano soldi cioè abbiamo detto se volete partecipare noi vi possiamo garantire che cosa il modello organizzativo la possibilità di mettervi in rete vi daremo la massima disponibilità in termini di promozione di comunicazione però non ci chiedete soldi devo dire che la risposta è stata veramente interessante perché hanno aderito più di 80 persone distribuite tra produttori trasformatori e ristoratori e noi diciamo con loro abbiamo avviato questo percorso di valorizzazione abbiamo istituito presso il parco del Pollino un albo l'albo dei produttori custodi l'albo dei trasformatori custodi l'albo dei cuochi custodi custodi di che cosa di tutte queste produzioni legate o ai prodotti tradizionali o ai prodotti DOP IGP o DOC e quindi loro per potersi diciamo per avere questa qualifica di diciamo di produttore di trasformatore o di cuoco custode hanno dovuto diciamo hanno dovuto diciamo fare questa iscrizione all'albo e da quel momento abbiamo iniziato a costruire la rete quindi lo sforzo che abbiamo fatto nei mesi scorsi in piena pandemia è stato quello di organizzare un'attività pontuale attività formativa e informativa e lo so però devo chiudere se non ma sono ci sono dove abbiamo chiesto a loro di partecipare a questa attività formativa abbiamo chiesto a loro di partecipare a delle giornate dimostrative dove abbiamo diciamo spiegato ai vari soggetti il progetto ma soprattutto abbiamo dato la possibilità di far conoscere le produzioni perché la cosa quando ci siamo resi conto è che questi distoratori non conoscevano i prodotti locali e quindi abbiamo fatto tutta questa attività e abbiamo diciamo chiesto a loro di identificare nel caso dei produttori questi prodotti con delle convezioni e con dei bollini e quindi le aziende hanno cominciato a scrivere sulle etichette non solo prodotto PAT ma anche a mettere il bollino produttore custode o trasformatore custode e nel caso dei ristoratori di mettere sul menu di segnalare sul menu perché la cosa che noi abbiamo detto non cambiate il menu voi dovete aggiungere sul menu che cosa intanto il prodotto comunale come obbligo più l'aggiunta di tre prodotti a scelta e di inserire sul menu online o sul menu cartaceo il bollino dell'agricoltore custode e quindi naturalmente abbiamo dato loro non scusa Sergio mi volete far chiudere subito abbiamo dato loro ho finito delle tabelle per cui quando uno arriva nell'azienda o nel ristorante trova la tabella cuoco custode ho presto la scuola perché abbiamo coinvolto anche le scuole il direttore accennava anche le proloco abbiamo coinvolto anche le 27 proloco perché per noi diventavano i punti informativi di questo itinerario e abbiamo rivisto le tabelle le bacheche e quindi abbiamo realizzato il sito dove ognuno potrà scaricare tutte le informazioni per cui uno che viene da noi ha la possibilità di sapere dove andare a visitare il luogo di conservazione dove si può vedere i produttori la trasformazione ma soprattutto ha la possibilità anche di sapere dove andare a mangiare questi prodotti concludo dicendo che il 16 di dicembre tutto questo sarà presentato a Francavilla in Sini grazie 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 domenico adesso spero che Carmelo scusa lo hai l'ho fatto arrivato alla terza stop io no allora cercherò di stare nei tempi assegnati dieci minuti assegnati da chi assegnati dalla dirigente così è stato messo segnati da chi dietro siamo è vero io c'ho il cronometro siamo ben oltre fuori il tempo i tempi di tutti io ho questa il problema è che i vostri si sono un po' sommati arrangiati no assolutamente è capitato poi ci siamo allora intanto io preferisco parlare in piedi perché se mi dai il mouse Sergio posso far andare grazie però ho bisogno di un video no no ho bisogno del video perché poi io ho il tempo devo stare nei tempi è un fatto mio questo gioco ma cinque minuti però anche per sollevare un po' l'attenzione intanto ringrazio la dirigente Pietro che l'altro giorno mi hanno chiamato per cercare di dare un piccolo contributo in termini sull'innovazione ho cercato di fare qualcosa sull'innovazione intanto attenzione Sergio questo ok intanto cercare di contestualizzare un po' il territorio come diceva Rosanna nel suo intervento le aziende sono state connotate per interessarsi di un comparto nello specifico l'azienda Pantanello del comparto ortofruttico e delle colture alternative e ha citato un paio di progetti Canapa ma anche ho visto qualche parte nella relazione del direttore Guaiule abbiamo anche questi ambiti di sperimentazione in azienda il contesto territoriale il contesto territoriale è quello del Metapontino e dei Fondo Valle Irrigui un dato anche numerico per capire un po' dove ci muoviamo in cosa ci muoviamo anche in termini quantitativi considerate che noi sviluppiamo questo è solo per la produzione frutticola oltre 200 milioni di PLV nel territorio della provincia di Matera circa 204 su quello regionale per cui il grosso circa il 94 per cento della PLV frutticola solo frutta questa ho avuto in serie gli ortaggi che sono più o meno a metà tra materia e potenza in termini di superficie si producono in questa come produzione o produzione di vendibili in questo territorio è un settore molto competitivo si ha a che fare con richieste di innovazioni alcune nuove anche alcune già consolidate aprirò una parentesi su questo produzione innovazione legate al mercato il mercato decide ciò che va faccio un esempio per capirci noi Pinomele non c'è aveva qualche capello ancora Pinomele ma anche dottor Troiano quando facevamo i lanci di insetti utili parliamo di 25 anni fa insetti utili per il controllo di alcuni parassiti della fragola è una innovazione sperimentata come dicevo 25 anni fa che da circa 3-4 anni è stata inserita nel territorio ma per un semplice motivo perché il mercato chiede cibi più ecocompatibili a basso residuo per cui le imprese agricole hanno dovuto utilizzare nuovi mezzi per stare sul mercato oggi possiamo contare 300 ettari di fragole su mille che sono in cui si utilizzano queste tecniche queste biotecniche e si parla di 300 ettari che si utilizzeranno sugli agrumi considerate che noi avevamo fatti i lanci ma avevamo un insettario a Pantanile in cui producevamo il Cryptoleus Montruziari che era l'elemento di innovazione che verrà inserito in Spagna di cui si sta discutendo in questo momento per contrastare il cotonello sudafricano simile al nostro ma molto più dannoso che dell'Ottococcus Averie per cercare di controllare questa parassita in Spagna e questo è un aspetto cosa significa che le innovazioni possono essere vecchie ma se non vengono contestualizzate inserite in un territorio restano lì poi successivamente con il mercato come in questo caso ci può essere un interesse l'innovazione di prodotto specie e varietà noi siamo alle prese con queste innovazioni innovazioni di processo agricoltura compatibile c'è una discreta organizzazione produttiva vedete quando ho iniziato a fare sto lavoro si parlava del 33% di produzione organizzata e siamo ancora lì cosa significa che non c'è stata questa esplosione di organizzare la produzione per cercare di essere più competitivi sul mercato probabilmente sta diventando un fatto strutturale e questo è un dato da considerare le culture leader fragole albicocche parlerò di queste gli indirizzi di politica agricola comunitaria regionale che noi consideriamo per innovazione un concetto che non è mio estrapolato cosa significa l'introduzione di nuove modalità di progettazione di produzione o vendita di beni o servizi significa creare un cambiamento positivo nello stato di cose esistente cosa significa un'innovazione consolidata che noi avevamo già sperimentata per noi l'innovazione è diventato un fatto ormai consolidato se non inserito in un contesto produttivo per quel contesto non è innovazione cosa ci chiedono le imprese le imprese ci chiedono se io dovessi fare come faccio spesso la graduatoria di cosa che mi chiede le domande più frequenti che ci fanno livello di consulenza sono cosa impiantare e tutto ciò vedete col piano strategico di cui si parlava l'altro giorno la dottoressa Caragiulo ci ha invietati a dare dei supporti in merito beh ma in questa direzione si intersecano abbastanza bene tipo le cose impiantare per gli investimenti produttivi agricoli c'è una misura doc quali specie e varietà e il mercato l'abbiamo detto la produzione integrata parliamo di green deal farm to fork sono tutti aspetti con cui avremo a che fare nel futuro e infine gestione delle risorse acqua e suolo irrigazione e fertilizzazione ok cosa fa l'Alsia per questo cosa abbiamo fatto all'azienda Pantanello per questo ormai dal 1980 l'azienda Pantanello nasce nel 1982 sperimentazione validazione non siamo produttori di innovazione tranne in alcuni casi come abbiamo visto ormai il mercato è totalmente cambiato rispetto a 25 anni fa è cambiato anche per un altro aspetto vedete quando abbiamo ionizzato sto lavoro ormai dal 1994 chi faceva innovazione o meglio chi validava innovazione era la parte pubblica la parte privata era abbastanza limitata oggi invece con le prima le organizzazioni di produttori anche loro cominciano a lavorare su questi aspetti di validazione di sperimentazione di creare effettivamente anche innovazione non solo direttamente ma anche con la partecipazione a progetti nazionali di ricerca e questo è un aspetto importante divulgazione informazione cerchiamo di farla tutti i giorni infine i servizi specialistici è inutile confermare quello che abbiamo visto abbiamo sentito anche in precedenza cosa stiamo facendo validazione di specie e varietà uso tre settori fondamentale uso risorse delle risorse naturali produzione ecocompatibile validazione di nuove specie e varietà e qui voglio questo è una è una slide tratta dal report del cpvo chi detiene dove si registrano le nuove le innovazioni in ambito agricolo soprattutto varietà e volevo soffermare vedete dal 2011 al 2020 vedete questo è il totale vedete mediamente ogni anno nel settore agricolo vengono registrate da 2500 fino a circa 3000 innovazioni varietali all'anno e gli aspetti che vedete chi registra i paesi nella tabella sotto sono principalmente l'Olanda la Francia la Germania la Spagna l'Italia su circa il numero di 2900 dell'anno 2020 questo è il report del 2020 abbiamo registrato circa 104 varietà non siamo quando si sciacqua la bocca sulla ricerca e innovazione noi non stiamo producendo innovazioni in questo settore li produciamo abbiamo pochi progetti però cominciamo a dipendere da altri paesi da questo punto di vista un altro aspetto importante vedi che la maggior parte delle innovazioni delle specie registrate sono ornamentali la parte relativa alla frutticoltura è quella rossa è solo il 9% cioè circa 300 di varietà iscritte l'anno scorso nel registro del CPUBO sono frutticole e questo è un altro aspetto che ci fa anche per la difficoltà molte volte che si ha nella produzione di un'innovazione frutticola non è un'innovazione non è un'impoltura erbacea capite benissimo è inutile spiegare questo cosa stiamo facendo dice la validazione di alcune nuove specie e varietà vedete abbiamo inserito tra le nuove specie il melograno e il cachi che dopo un espluato considerate io nel 2010 un viaggio in Spagna ero nella zona sud-est di Valencia e notavo a vista d'occhio agrumi e qualche campo di cachi dopo 5 anni nella stessa zona notavo cachi e qualche campo di agrumi in 5 anni in Spagna hanno prodotto circa 20.000 ettari di cachi considerate 20.000 per darvi un'idea noi abbiamo circa 18.000 ettari di coltivazione dal bicocchio in Italia per darvi un'idea del paragone per cui è molto veloce e già ora hanno problemi di mercato nel vendere cosa stiamo cercando di fare e cerchiamo di validare sempre valutare queste varietà sono le innovazioni soprattutto in cachi il famoso cacomela il cacoduro non quello deliquescente che normalmente siamo stati abituati a consumare cercando di utilizzare varietà che non hanno necessità del processo di detannizzazione per eliminare i tannini e questo potrebbe essere un vantaggio in più perché oltre a implementare i campi bisogna implementare le strutture per detannizzare il materiale considerate che quando andai in Spagna la cosa che mi ti assi impresa è che il detannizzatore non è altro che produrre anidride carbonica e toglie i tannini in pratica era un un tir un cassone di un tir con una macchinetta fuori che regolava questa CO2 cinque anni dopo c'era Smart Fresh che è una multinazionale che si occupa di prodotti in frutticoltura che produceva delle celle spettacolari molto avanzate e quant'altro cosa guardiamo abbiamo questi numeri che ho fatto vedere io vedete dal 95 al 2020 su cosa dobbiamo lavorare sono state licenziate oltre 1043 varietà di pesco 743 di fragola 602 di melo 322 da Bicocca e 141 di ciliegie noi nel nostro territorio anche in base alla vocazionale dello stesso lavoriamo su quelle specie che voi vedete a destra con quelle quantità un ultimo aspetto che stiamo considerando negli ultimi anni sono le varietà cleb ormai per cercare di avere di capovolgere la situazione che il produttore abbia voce sul mercato dobbiamo valutiamo queste varietà cleb cosa osserviamo nelle varietà cosa vuole il mercato ho visto due esempi veloci l'albicocca ormai si passati dall'albicocca gialla pallida un'albicocca aranciata intensa sovracolorata con tutte le linee di ricerca che noi consideriamo queste sono le innovazioni che noi negli ultimi anni stiamo valutando a Pantanello e per cui cominciamo per cinque anni noi valutiamo le produzioni per cercare di dare il consiglio al produttore questo è il gruppo dell'albicocco questi sono i partner con cui collaboriamo e se voi vedete d'Italia c'è poco CRPV l'Università della Tuscia il MASPES che è l'unico progetto che sta lavorando sul miglioramento genetico in frutticoltura oggi in Italia l'Università di Milano il CRPV e l'EOP a Pofruit a Grintesa e Orogel Fresco i privati Spagna IPS Francia Le Scand Francia Cot Francia e qualcosa di italiano che voi vedete sulla fragola lo stesso discorso vedete questo è l'ultimo una slide giusto per far vedere il lavoro in termini di produzione soprattutto come si disloca nel tempo la produzione considerate che noi abbiamo la varietà se voi vedete la varietà più nota che tutti conoscono ormai è Candonga Sabrosa Candonga è il marchio regista Sabrosa è la varietà protetta vedete se voi andate a vedere Sabrosa è quella meno produttiva perché allora domanda perché sul mercato riesce a prevalere Candonga e non una varietà faccio un esempio su Tutelide la varietà che stiamo guardando da un paio d'anni perché Candonga ha delle caratteristiche organolettiche soprattutto ha una grande capacità di servevolezza che ci consente di stare anche dieci giorni sul mercato e questo è un effetto importante la varietà matera l'avete sentito parlare in questi anni la caratteristica principale qual è? è questa perché anche nei periodi caldi quando arrivano le temperature oltre 40 gradi sotto i tunnel riusciamo a fare una sola passata di raccolta considerando anche la penuria di manodopere che abbiamo in quel periodo questi sono i partner e infine è stato già accennato in precedenza operiamo su due progetti 16.1 e 16.2 e su a questi stiamo lavorando anche a livello sperimentale in azienda soprattutto sull'orticoltura col nutrife per gestire la nutrizione in integrato in biologico di questa cultura e devo dire che abbiamo avuto dei risultati interessanti fine sull'irrigazione questi sono i partner con cui collaboriamo a livello di progetto e penso ecco qua abbiamo finito l'ultima cosa che volevo dire ho finito un attimo solo 13 minuti è una piccola parentesi spesso e chiudo gestione dove Manuele lo vedo solo gestione dell'irrigazione noi abbiamo fatto con Manuele un'esperienza in Spagna io non riuscivo a capire come mai abbiamo visto insieme dei campi perfetti con 440 tonnellate per ettari di agrum perfetti irrigavano con 3000 metri cubi abbiamo traslato senza fare grandissime grandissime prove sonde ormai tutte capannine e quant'altro noi ce ne abbiamo abbastanza prendendo il dato che avevamo delle nostre capannine abbiamo traslato i coefficienti coltoriali che utilizzavano lì da 3 anni da 3 anni produciamo 30 tonnellate di etero di media buona qualità di agrumi con un'oscillazione da 2000 a 2500 metri cubi per etero considerate che mediamente dati del consorzio ce ne vogliono 6000 per fare una coltivazione annuale questo cosa voglio dire che spesso non c'è bisogno della grande innovazione o della anche da un punto di vista anche con piccoli passi con piccoli esempi anche apportando delle piccole modifiche possiamo conseguire dei risultati grazie per l'attenzione bene c'è l'ultimo intervento di del dottor Cellini per l'area ricerca e servizi avanzati spero di beccare subito la slide buonasera cerco di essere molto rapido considerate l'ora tarda e la la stanchezza che è imperversa faccio io gestisco io Sergio un attimo solo che condivido vi parlo mi scuseranno parlo anche a beneficio di coloro che ci ascoltano da fuori o comunque che ci ascolteranno perché il video sarà comunque disponibile quindi dirò delle cose che a voi suoneranno ovvie ma lo faccio a beneficio ovviamente di altri l'area ricerca gestisce ovviamente risorse umane infrastrutture infrastrutture tecnologiche e anche attività quindi anche progetti e parto dalla squadra ovviamente noi nella dallo scorso anno a quest'anno abbiamo perso tre persone per andate in quiescenza e quindi diciamo siamo 22 eravamo 25 lo scorso anno e sono andati i due amministrativi in pensionamento più un tecnico di campo diciamo quindi la squadra si è ridotta ricordo a tutti che noi gestiamo anche l'ufficio acquisizione beni e servizi al momento e ci ho anche avuto facendo 13 diciamo al totocalcio da marzo sono anche responsabile diciamo della prevenzione della corruzione e della trasparenza quindi diciamo il mio proprio quando uno è fortunato diciamo le prende tutte quindi giusto per per completezza per completezza di informazione ovviamente in questo soprattutto nell'ultima che sono anche assistito da un gruppo di lavoro che non appartiene di persone che non appartengono alla mia area e questo diciamo porta dei benefici sicuramente sempre a beneficio di chi ci ascolta ricordo che la nostra l'infrastruttura che noi gestiamo è di una particolare complessità perché non solo è una grande infrastruttura in termini di spazi di impianti quindi è un vero e proprio stabilimento diciamo ma c'è anche la complicazione di gestire poi all'interno di una specie di condominio vedrete poi che ospitiamo altre realtà all'interno del centro ricerca e quindi di particolare complessità dal punto di vista della gestione oltre che infrastrutture tecnologiche che complicano diciamo la gestione quindi una parte significativa dell'attività va anche proprio alla gestione hard come si direbbe dell'infrastruttura io ci tengo sempre a dire qual è il nostro posizionamento come centro di ricerca noi siamo entrati nell'agenzia nel 2013 noi non siamo un gruppo di ricerca universitario non siamo un gruppo di ricerca del CNR quindi non abbiamo le dimensioni non abbiamo la forza quello che ne facciamo è invece quello che si chiama sfruttamento dell'innovazione cioè l'exploitation dei risultati di ricerca che significa che siamo quello che si chiamava una volta un gruppo di ricerca industriale cioè siamo un gruppo di ricerca che prende la ricerca che sia prodotta in proprio o di altri risultati e cerca di tradurli in qualcosa di applicativo che possa essere un nuovo prodotto o un nuovo servizio e quindi diciamo abbiamo un'attività di sviluppo quasi prototipale quindi più che fare attività di ricerca facciamo delle innovazioni sviluppiamo attività che producono innovazioni ed applicazioni e questo da anche contezza dei numeri ecco perché possiamo essere un piccolo gruppo non abbiamo bisogno di grandi numeri per fare questa attività abbiamo bisogno invece di pluricompetenze avete visto che nel portafoglio delle competenze siamo molto diversificati il nostro profilo di attività il nostro cuore delle attività è di tipo biotecnologico soprattutto biotecnologie vegetali e industriali significa che al centro abbiamo le piante quindi per noi le piante sono una specie di piattaforma noi le piante possono essere utilizzate ovviamente in agricoltura va da sé che diciamo le culture vegetali sono importanti ma le piante hanno anche una importanza per l'impatto ambientale per esempio possono essere anche utilizzate per bonificare avere applicazioni anche in campo ambientale possono avere applicazioni industriali quindi dalle piante possiamo ottenere farmaci dalle piante possiamo ottenere fibre e possiamo avere energia quindi già in partenza il gruppo di ricerca appunto non lavora intorno al concetto di pianta come piattaforma e dalla pianta poi si possono dire amare varie applicazioni l'agricoltura certamente è una delle più importanti ma non è l'unica ecco perché spesso appunto anche nel piano annuale parliamo spesso di bioeconomia più che solo di agricoltura proprio per ampliare il raggio di azione e ad avere anche un bacino di utenti che vanno al di là dell'agricoltura ma che sia un approccio più di sistema in cui ci sia anche una componente di tipo industriale noi abbiamo un compito fondamentale da quanto tra l'altro siamo in agenzia che è quello di cercare poi di scaricare a terra come si dice tutta questa ricerca di tipo competitivo di cui noi applichiamo e facciamo parte ricerca appunto di tipo europeo nazionale eccetera scaricare terra significa poi renderla fruibile al territorio renderla fruibile alle imprese e quindi cercare di tradurre strumenti che poi possono essere utilizzati e devo dire che in questi anni abbiamo fatto uno sforzo molto importante attraverso due cose uno è una più forte relazione all'interno dell'agenzia con i servizi di sviluppo con le aziende sperimentali non ho mappato ma è un esercizio che dovrò fare magari insieme ai colleghi quante relazioni come queste si sono ampliate nel tempo perché è fuori dubbio che queste si siano ampliate cioè il numero di progetti in cui siamo coinvolti orizzontalmente le aree servizi di base servizi programmazione sviluppo e l'area di ricerca sono aumentati nel tempo e vanno in un senso e nell'altro quindi noi applichiamo per progetti e coinvolgiamo le aziende sperimentali o viceversa siamo coinvolti ma perché questo questo già da una dimensione che c'è più consapevolezza anche interna della grande capacità di poter scaricare a terra questo tipo di tecnologie e quindi poterle utilizzare abbiamo fatto oggi abbiamo visto tantissimi esempi della genomica applicata alla trota piuttosto che alla biodiversità ma noi per tenere in piedi la struttura di genomica dobbiamo fare ricerca e sviluppo altrimenti non possiamo applicarla diciamo in campi applicativi quindi questo è fondamentale per poter poi sviluppare applicazioni nel mondo reale sulle imprese e sul territorio i progetti la tipologia di progetti l'ha detto anche il direttore ma è qui il richiamo noi abbiamo sostanzialmente due grandi gruppi di attività abbiamo i progetti di ricerca e sviluppo competitivi a bando che hanno tre livelli europei nazionali e regionali e poi quello che appunto è lo scarico a terra poi abbiamo sviluppato un portafoglio di servizi innovativi per le imprese gli enti pubblici e del territorio e questo portafoglio via via dimostra di avere sempre più clienti sempre più utenti a questo portafoglio perché questo? uno perché le tecnologie costano sempre di meno quindi noi siamo in grado di applicare queste tecnologie e lo abbiamo fatto per esempio per l'applicazione di genomica per l'applicazione lo vedremo dopo di studio del fenotipo anche per piccoli prodotti di nicchia ci sono rivolti a noi comuni per fare analisi genomiche ci sono rivolti a noi diciamo enti pubblici che avevano interesse parlo anche esterni al sistema Basilicata che avevano interesse con piccole somme piccoli investimenti per fare questo tipo di indagini abbiamo all'attivo 20 progetti io parlo adesso del 2021 vi evito diciamo un po' di storia ma nel 2021 abbiamo al nostro attivo 20 progetti di cui 13 a pieno regime e 7 che sono approvati e che entreranno in maniera più forte diciamo negli anni a venire qui ci sono le tematiche principali di cui noi ci occupiamo la prima è quella del miglioramento genetico oggi è stato più volte evocato l'importanza della genetica Carmelo per ultimo ne ha dato un esempio molto lampante quanto sia importante rispetto al mercato ma anche rispetto poi a quello che sta avvenendo ai cambiamenti climatici alla resilienza ai cambiamenti climatici non si può fare a meno di fare il miglioramento genetico delle culture mi auguro che l'Italia recuperi il ruolo Carmelo ha detto molto bene che l'Italia sta perdendo posizioni diciamo ma questo è un problema ovviamente che non può risolvere l'agenzia noi possiamo solo dare il nostro piccolo contributo e lì vedete quali sono alcuni dei target del miglioramento genetico su cui lavoriamo resistenza ai cambiamenti climatici resistenza a patogeni miglioramento della qualità sviluppo di culture speciali per l'industria questo è un argomento che verrà sempre più forte probabilmente in futuro cioè di culture che producono particolari sostanze di interesse per applicazioni industriali la valutazione dei biostimolanti quindi di nuove molecole che servono a conferire alle piante caratteristiche particolari biotecnologie fungine di usura di residui agricoli per l'industria qui siamo in un settore più tipico della chimica verde che va verso le agroenergie abbiamo tantissimi abbiamo una bella attività sulla sull'utilizzo dei funghi e degli enzimi fungini per convertire residui in nuove molecole o in agroenergia e una che poi è un po' il fiore all'occhiello è lo sviluppo di tecnologie di immagine e di diciamo sensoristica per l'agricoltura di precisione i progetti competitivi in cui partecipiamo qui sono elencati quelli più importanti europei uno è il ppn 2020 che è la rete di diciamo di centri di ricerca che si occupano di analisi del fenotipo delle piante attraverso l'analisi delle immagini abbiamo enfasis che è la grande infrastruttura strategica europea quindi diciamo noi siamo tra l'altro il nodo nazionale quindi Alsia è il nodo nazionale della grande infrastruttura strategica europea ha enfasis sul fenotyping una cosa di particolare rilievo e poi un progetto in cui siamo coinvolti a proposito di collaborazione tra le varie aree è RUCAPS che è un progetto europeo che prevede un'attività di scambio di buone pratiche nel campo della digitalizzazione dei sistemi al supporto delle decisioni nel settore agroalimentare questi sono due progetti PON che sono attivi uno è stato già citato da Emanuele Scalcione che è il progetto ISI che è un progetto che punta allo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione per l'irrigazione della fertilizzazione in collaborazione con una piccola e minipresa che si chiama Erazio Pugliese e poi abbiamo questo grande progetto nazionale i CROPS in cui Alza è coinvolta per mettere a disposizione la piattaforma di fenotyping come base per l'agricoltura di precisione che significa che i dati che provengono dalla piattaforma saranno utilizzati poi da droni per esempio o da azioni di tele rilevamento per poter identificare in campo gli stress e quindi rispondere in maniera adeguata con i fertilizzanti piuttosto che con l'irrigazione questa è la nostra infrastruttura qui in sala la conoscete molto bene è come dicevo una infrastruttura di grande livello ed è il nodo nazionale appunto della grande infrastruttura strategica europea e viene utilizzata in tanti progetti ed è un elemento di forte attrettività anche di investimenti da parte di pubblici e privati che ci consentono di sostenerla di fare anche tantissime attività adesso io diciamo prendo solo tre esempi ho voluto fare su quello che ho chiamato Highlight cioè tre elementi caratterizzanti del 2021 rispetto a quello che è avvenuto in passato uno dei compiti del progetto IPPN 2020 era quello di far consentire l'accesso a gruppi stranieri alla nostra piattaforma di fenotyping per svolgere delle attività progettuali di interesse e noi vedete abbiamo fatto nonostante la pandemia nonostante il covid abbiamo avuto tre accessi alla piattaforma di tipo competitivo cioè queste erano accessi a bando quindi dovevano applicare dovevano essere valutati dal progetto e poi essere accettati in totale noi abbiamo fatto cinque accessi abbiamo ricevuto dodici domande quindi la piattaforma ha avuto un certo successo e abbiamo avuto accessi che vanno dall'università di Belgrado alla Polonia a Cifro questi solo nel 2021 il che significa che la nostra piattaforma diciamo e le nostre competenze sono ben apprezzate diciamo a livello europeo e servono anche per scopi scientifici e di applicazioni diciamo per esempio per il miglioramento genetico queste tipicamente sono azioni che riguardano il miglioramento genetico in e-crops questo è l'altro progetto importante proprio in questo momento abbiamo finito una prima una prima attività di ricerca su pomodoro su 20 varietà applicando stress biotici a biotici un insieme di stress biotici a biotici l'idea è di costruire una libreria una collezione di immagini in funzione degli stress in modo tale da poi che possiamo discriminare il tipo di stress quindi avendo questi dati è possibile poi dire che cosa avviene quando c'è uno stress biotico a biotico e questo è di fondamentale importanza per chi fa agricoltura di precisione adesso stiamo partendo con 20 varietà di frumento duro quindi abbiamo diciamo il nostro compito di fare queste collezioni questa libreria di immagini di analizzarle su frumento duro e su pomodoro una cosa molto particolare secondo me molto bella che stiamo facendo e che ci sta dando particolare successo è lo sviluppo poi di un sensore in vivo in pianta voi sapete che uno dei problemi nelle piante è che spesso per avere dati se una pianta sta bene o male diciamo bisogna fare delle cose indirette cioè non c'erano strumenti per ora per sentire poi come faremo noi per elevare il sangue diciamo e vedere per esempio il valore dell'ematocrito quindi con un gruppo di ricerca del CNR stiamo sviluppando un sensore in vivo che fa in real time riesce a misurare per ora i flussi e le correnti che ci stanno nei fluidi all'interno delle piante questo ci dà una serie di indicazioni sullo stato di stress delle piante quindi questo è un sensore che non è importante soltanto per applicazioni in campo della fisiologia e della scienza ma sta già si sta provando lo stiamo provando in pieno campo perché può dare anche indicazioni per l'agricoltura di precisione perché a quel punto si misura direttamente sulla pianta lo stato di salute diciamo così della pianta e in più come vedete in queste immagini noi lo stiamo sviluppando anche sulla nostra piattaforma ce lo stiamo integrando letteralmente nella nostra piattaforma c'è un prototipo che sarà tra l'altro dovrebbe essere provato penso ai primi dell'anno dell'anno in cui noi andremo proprio a fare contestualmente analisi di immagini avremo più sensori quindi avremo molto più capacità di indagine sulla pianta e questo ci consentirà di nuovo di avere molto più appilla anche nei confronti dell'esterno quindi questo è uno sviluppo molto importante stiamo pubblicando tantissimo diciamo anche su queste cose che non solo sono scienza diciamo sembrerebbe quasi fantascienza questi hanno dei risvolti applicativi molto potenti quindi questo vi vorrei diciamo attraverso la vostra attenzione che sembra adesso un aspetto quasi fantascientifico in realtà il potere applicativo la capacità applicativa di queste ricerche è molto alto e tra l'altro sono a basso costo ripeto questo non è un incidente ed è una cosa di straordinaria importanza l'ultima cosa è la highlights è la prosecuzione del progetto Inviniveritas che è il progetto in cui noi stiamo facendo un miglioramento genetico della vite attraverso approcci di genomedici già l'anno scorso ne parlò la dottoressa Caterina D'Ambrosia adesso ci sono evoluzioni su queste di tipo tecnologico ma è un progetto molto importante perché è un progetto che vede insieme i produttori di vinicoli locali quindi dell'Aglianico e della Doc Matera che credono molto nel miglioramento genetico questo è un miglioramento genetico molto avanzato l'idea è di introdurre resistenze a patogeni e di avere precocità nella produzione per evitare problemi di tipo agronomico importanti su queste due culture quindi diciamo è un investimento a medio-lungo termine che secondo me è molto importante queste cose vengono poi scaricate a terra attraverso i servizi abbiamo fatto abbiamo inserito una parte di questi servizi è già inserita nella carta dei servizi dell'agenzia questi servizi che vedete qui sono servizi reali cioè nel senso che sono servizi non potenziali ma sono servizi che già hanno accesso di diversi utenti che sono imprese che sono enti locali che sono enti di ricerca quindi il nostro mercato diciamo da questo punto di vista è un mercato che vede imprese enti pubblici enti di ricerca anche gli enti di ricerca ci danno diciamo commesse per fare attività qui vi voglio solo sottolineare diciamo ad integrazione la diagnostica fitosanitaria che per noi è un asset molto importante siamo laboratorio di riferimento della regione Basilicata e una cosa ultima che è venuta fuori è questo del supporto di accelerazione di start up diciamo che è una cosa su cui ci stiamo sfidando devo dire come agenzia non complesso con questo progetto di South Up che è stato un primo esperienza pilota fatta insieme a Jaul e al Poliab di Milano che ha visto appunto la premiazione di tre start up che hanno diciamo il compito di trasferire queste innovazioni in tre aziende agricole che noi stiamo seguendo direttamente quindi il nostro lavoro in questo è stato fondamentale progetto che vedrà un ampliamento anche l'anno prossimo perché ha avuto un particolare successo e quindi saremo impegnati in maniera importante ospitiamo varie cose nel centro ricerche qui ho aggiunto alle tre che avete visto l'anno scorso ho aggiunto l'ultima riga che è quella dell'accordo con il Dicem e il Cerisa quindi diciamo il numero di ospiti nel campus di Pantanello e dentro il centro ricerca aumenta e questo è importante perché si va incontro a quel discorso dell'ecosistema quindi si varia diciamo varia la configurazione da Alsia da sola e il centro ricerche da solo a in un unico luogo fisico la presenza di più attori che portano a un ecosistema dell'innovazione quindi a più soggetti che possono rispondere all'esigenza questa è l'ultima slide non ve li elenco ma questi sono i progetti che sono entrati già e sono stati finanziati sono stati approvati e che vedranno il loro avvio concreto nel 22 ho sbagliato la data per mi scusate e sono questi ce ne abbiamo il primo è un progetto diciamo molto importante del del programma prima il programma primo è un programma del bacino diciamo di investimenti per il bacino del Mediterraneo che ci vede impegnati insieme anche a paesi del Mediterraneo sul priming e poi vi segnalo l'altro che è il secondo che è questo di Fenolab 4.0 che è stato accennato dal direttore che è il potenziamento dell'infrastruttura di fenotyping con un progetto di 5 milioni di euro che ci vede partner col CNR che c'è l'unità di ricerca quindi siamo noi e il CNR che potenziamo l'infrastruttura di ricerca che diventerà sempre più potente e sarà sempre più diciamo il polo nazionale diventa sempre più forte da questo punto di vista perché vede anche un altro attore io con questa ho finito e possiamo andare a cena grazie 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 Francesco a questo punto c'erano le ultime considerazioni del del direttore sinceramente mi viene voglia di dire prendiamo l'ultima diapositiva della mia relazione e chiudiamo chiudiamo qui la giornata una giornata intensissima due sessioni di questa giornata una più interessante dell'altra la prima a livello nazionale la seconda a livello interno dell'Arsia nella seconda parte cioè nella seconda sessione abbiamo raccontato un po' quello che siamo e abbiamo raccontato anche da dove stiamo andando stiamo andando sempre di più in questo sistema integrato in questo sistema che vede per il prossimo per il prossimo triennio e in particolar modo per il prossimo anno 2022 una conferma di tutte quelle che sono le strategie di sviluppo dell'ente quindi le linee di ricerca l'inserimento ad oggi di circa due milioni di progetti che qualcuno è partito questa settimana qualcun altro partirà la settimana prossima che vanno da quello che è una nuova una linea lì una nuova linea di intervento dell'Alse sul territorio e cioè cercare di dare e di colmare un vuoto o una carenza che c'è nel settore agroalimentare della regione Bassicato cioè quella della Manotopera entriamo in un settore eh da grandi protagonisti quello di addestramento del quindi con percorsi di addestramento delle eh delle personale da impiegare in agricoltura entriamo ugualmente da protagonisti in un in un territorio che ci vede storicamente presenti quello della Val d'Agri con un con una conduzione e con un intervento di cinquecentomila euro finanziato e che stiamo sottoscrivendo in questi giorni per accompagnare eh a livello territoriale quelli che sono interventi abbastanza molto più importanti parliamo di decine di milioni di euro l'Alsia è lì che accompagna questo processo a livello territoriale entriamo ancora in un altro segamento ritengo alquanto importante e strategico per questa regione cercando di dare una mano e collaborando a livello del ministero degli interni delle prefetture di altri organi diciamo strategici per quanto riguarda tutta l'accoglienza e ovviamente l'ospitalità mettendo a disposizione i nostri ex centri le nostre i nostri borghi cercando di ristabilire di ridare quello che era all'origine la funzione di questi borghi stiamo lavorando su stiamo lavorando per quanto riguarda su Gaudiano stiamo lavorando su su tanti altri siti entriamo e ci confermiamo ancora da protagonisti che che se ne voglia dire che che qualcuno pensa io sono convinto di avere intorno a me una grande squadra una grande squadra che è fatta di uomini e di donne che ci credono in questo ente da cui si sentono fortissimamente legati e per questo volevo ringraziare tutti tutti quelli che fanno parte di questa squadra di quelli che c'erano vent'anni fa di quelli che non ci sono più perché hanno fatto una scelta diversa per quelli che hanno lasciato l'ente ma soprattutto volevo ringraziare quelli che continuano a crederci in questo ente che come avete potuto sentire questa mattina è un ente che sfida e compete tranquillamente a livello nazionale con altri enti abbiamo fatto a tavola un minimo di confronto tra un ente presente in una regione di poco all'incirca di cinquecenta mila abitanti con altre regioni di diversi milioni di abitanti il nostro ente si posiziona se lo andiamo a rapportare al territorio a quello che è la PLV a quello che è il reddito che ci proviene dall'agricoltura come uno degli enti più importanti è un ente che sa ancora intervenire sullo scenario non solo locale ma sullo scenario europeo e nazionale con tutti i progetti che siamo in grado di attrarre non solo quelli pubblici ma ribadisco ancora una volta quelli privati quelli delle multinazionali che molte volte preferiscono le aree del mondo quelle là a basso costo della manotopera ma per poter scegliere una struttura come l'Alsia comprendono molto bene il know-how la capacità le professionalità e la storia che questo ente ha continuo ancora con qualche piccola così con qualche piccola considerazione è un ente che vede grazie a un giornalaio un continuo attacco sulla stampa di un giornale un giornalaio che non sa che cosa è il suo mestiere un giornalaio che scrive falsità un giornalaio che probabilmente ha qualche qualcosa di diverso che non sa a che fare lasciatemelo dire pubblicamente questa direzione non ha tempo per rispondere per dire che scrivono delle menzogne questa direzione risponde con i fatti risponde con i fatti come la giornata di oggi risponde con i fatti con il territorio risponde con i fatti di quello che che siamo capaci di costruire e siamo capaci di portare avanti per cui io ho concludo questa giornata che ritengo ancora una volta fondamentale confrontarsi incontrarsi e il secondo meeting il secondo meeting che ha che ha avuto un grande successo consentitemi di essere anche un po' presuntuoso un grande successo di mettere in discussione se stesso ma di portare fuori se stesso alla considerazione e alla critica di tutti vedete io sono tra quelle persone e in direzione sono accompagnato da quattro dirigenti che svolgono il proprio lavoro con immensa professionalità e con grande spirito di sacrificio al di là di ogni altra considerazione intorno a me c'è una grande segreteria ci sono delle grandi grandi persone uomini e donne che collaborano indipendentemente da quello che è l'orario di lavoro e da quello che è ovviamente le mansioni ci sono intorno a me tutte le aree che nonostante tutto lavorano e lavorano anche la domenica sera alle undici per poter realizzare un obiettivo per poter portare a combimento un'opera un progetto non risultano intorno a me persone che si rifiudono di lavorare oppure persone che non rispondono scusate a uno whatsapp o un posto elettronico anche di domenica alle ore dieci ci sono intorno a me persone come ho detto che la mattina vanno a fare una terapia e alle ore dieci sono in ufficio ma ci sono anche intorno a me persone che fanno di tutto perché questo ente non abbia una grande immagine all'esterno un'immagine che merita un'immagine che ha un'immagine fatta di uomini e di donne che lavorano queste persone probabilmente hanno altri tipi di problemi ma io non ho interesse a perseguire o a seguire queste persone possono liberamente essere critici possono liberamente essere come posso dire avversi però credo che sia un importante che queste persone si confrontino si confrontino con tutta la struttura con i dirigenti con i funzionari con l'EPO con il direttore non ha mai negato nel confronto a nessuno il direttore c'è sempre c'è i giorni festivi ci sono i giorni lavorativi c'è sempre per un confronto per essere anche criticato mi piace essere criticato perché per me è stato sempre un momento di crescita la critica costruttiva è un momento di crescita per tutti quanti voi è un invito a essere critici a essere responsabile e razionale nelle cose che fate sta davanti a voi un direttore che ha preso questa struttura perché ritiene che questa struttura in questa regione debba essere una linea guida debba essere un momento di riferimento deve essere quello che gli agricoltori vedono un loro partner perché la propria impresa possa crescere perché i propri figli possano rimanere su questo territorio perché vedono in questa struttura una squadra che ha questo obiettivo io vi ringrazio a tutti per la pazienza vi ringrazio per la presenza vi ringrazio quelli che non hanno potuto essere presenti vi ringrazio quelli che ci hanno ascoltato e ringrazio anche quelli che sono stati fortemente critici perché questo ci ha consentito anche di fare meglio rispetto a quelle che pensavamo di fare grazie a tutti